Andiamo avanti col prossimo punto all'ordine dei lavori di oggi. Sì, è la proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Giacchetti Tempesta, Piccolo, Palumbo, Baglio, Celli, Pelonzi, Dibiase e Corsetti, adozione del regolamento per la gestione di cura delle aree verdi di Roma Capitale. Chi vuole illustrare? Vuole illustrare lei? Benissimo, consigliere Ariano. Posso illustrarlo io se i colleghi dell'opposizione... Grazie, Presidente. Colleghi consiglieri, lo scorso 21 luglio nella Commissione Terza abbiamo espresso, la Commissione si è trovata ad esprimere il parere su questa proposta di iniziativa consigliare che come lei recitava, Presidente, è a firma dei consiglieri Giacchetti Tempesta, Piccolo, Palumbo, Baglio, Celli, Pelonzi, Dibiase e Corsetti ed aventa ad oggetto l'adozione del regolamento per la gestione della cura delle aree verdi di Roma Capitale, protocollo RC 16903 del 2017. Come ogni proposta di deliberazione l'atto è corredato dai pareri della ragioneria generale che ha espresso un parere di regolarità contabile e dal parere del Dipartimento competente, in questo caso Dipartimento della tutela ambientale. In questa relazione che ha corredo del parere ci viene indicato quanto segue. In relazione alla nota di Codesto Segretariato Generale, protocollo RC 17026 del 6 giugno 2017, questa direzione, ai sensi dell'articolo 49 del TUE, il Decreto Legislativo 267 del 2000, esprime per quanto di competenza parere contrario, in quanto la proposta di delibera di iniziativa consigliare presentata di fatto stravolge tutti i principi base delle linee guida in materia di adozione di aree verdi, di cui alla delibera dell'Aggiunta Comunale numero 207 del 2014. In particolare nella proposta presentata si rileva quanto segue. Articolo 6, esenzioni, agevolazioni, promozione ed autofinanziamento. Al punto 2, le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suono pubblico sono escluse dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 19,2 del Regolamento COSAP, Deliberazione Capitolina numero 39 del 2014, in quanto attività assimilabili a quelle svolte da Roma Capitale per attività di pubblico interesse. Punto 6, Roma Capitale, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. Punto 7, il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario, di cui al comma precedente, di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali, al fine di svolgere attività anacoliche. Articolo 9, forme di riconoscimento per le azioni realizzate. Il patto di collaborazione come forma di riconoscimento delle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale può prevedere e disciplinare forme di pubblicità, quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi. Due, la visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato ed uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa delle aree verdi. Sono escluse forme di sponsorizzazione. Ciò premesso, la vigente delibera della Giunta Capitolina numero 207 2014 prevede tra i principali punti di conflitto con la nuova normativa proposta. Che i soggetti adottanti abbiano finalità dichiaratamente ed effettivamente no profit. Che l'adozione non prevede alcun vantaggio economico per il soggetto adottante, né dà diritto al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e o ragione da parte dell'amministrazione Capitolina, neanche a titolo di semplice rimborso spese, né alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità, diretta e o indiretta, mediante la posizione di cartellonistica, fatta eccezione per quella istituzionale di Roma Capitale, recante l'apposito logo istituzionale dell'ente e contenente le indicazioni operative afferente all'adozione dell'area. Che le aree adottate restano potenzialmente utilizzabili da parte di soggetti eventualmente interessati, senza prelazione alcuna per il soggetto adottante, presentando all'amministrazione istanza di occupazione del suolo pubblico, in coerenza con quanto previsto nel vigente regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico, OSP, e del canone COSAP, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale, numero 75, del 30-31 luglio 2010 e sue modificazioni. Inoltre, in merito alle considerazioni sovraesposte, si sono state richiamate le note sempre del segretariato, numero protocollo RC 5672 del 25 marzo 2014, e RC 10491 del 9 maggio 2014, che erano ovviamente allegate al parere. Ora, ovviamente, in questa situazione, in questo caso, non ci dilunghiamo, leggendo come abbiamo fatto invece più approfonditamente in Commissione, sia ovviamente con gli allegati, con le note allegate al parere contrario, sia ovviamente nello specifico all'atto, che si compone di 18 articoli. Giova a rilevare che nell'ambito della nostra valutazione, come sempre fa nei suoi lavori il Movimento 5 Stelle, quindi questa attuale maggioranza, abbiamo valutato ovviamente l'atto nei suoi contenuti. Mi piace fare riferimento adesso a quelle che sono le annotazioni che abbiamo dovuto necessariamente fare nei confronti di questa deliberazione. L'impianto normativo non è assolutamente allineato a quanto vigente. Non esiste solamente nell'ambito dei visti un piccolo refuso relativo appunto alla deliberazione dell'aggiunta capitolina numero 207, che appunto risulta essere indicata come 207 del 9 luglio 2015, mentre appunto risalenta all'anno precedente. così come, diciamo, in questo caso viene un pochino più difficile credere che, soprattutto quando si tratta di una maggioranza che è attuale minoranza nella presente consigliatura di Roma Capitale, insomma, ci sembra strano che non si possa avere diciamo una puntuale indicazione normativa in merito alla nuova normativa degli appalti che appunto è stata inserita come nell'atto come la 163 del 2006, mentre ovviamente è stata modificata col decreto legislativo 50 del 2016 ed è stata poi ulteriormente diciamo così rivista e comunque aggiornata con il decreto 56 del 2017. quindi ovviamente ci sentiamo semplicemente di fare riferimento anche agli altri articoli che sono appunto all'articolo 6 esenzione, agevolazione e promozione e autofinanziamento si fa riferimento all'articolo 24 della legge 11 novembre 2014 164 che appunto è stata abrogata col decreto legislativo quindi 50 quindi appunto con la nuova normativa degli appalti così come abrogato è l'articolo 11 comma secondo lettera F del decreto legislativo del 14 marzo 2011 numero 23 che si trova appunto al capo al comma 4 dell'articolo 6 facciamo finta diciamo così noi in questo caso possiamo rendendo l'atto scevro da quelli che sono i riferimenti normativi che evidentemente sono alquanto risalenti non possiamo però appunto non notare due cose la prima la regolamentazione è un atto molto importante nell'ambito della pubblica amministrazione in quanto regola le modalità di comportamento o quella successione di azioni che devono essere definite e che attraverso appunto questi regolamenti formali danno e disciplinano delle specifiche materie la nostra amministrazione ha avviato sin dall'inizio un discorso nuovo serio puntato ovviamente su quelle che sono le ricchezze di Roma Capitale per questo si è avviato da subito un processo che ha visto coinvolto appunto il dipartimento ambiente e che con l'attuale aggiunta capitolina ha portato alla delibera numero 66 del 14 aprile 2017 che contiene appunto le linee guida per il regolamento del verde del paesaggio di Roma Capitale ci sembra al momento difficile poter ritenere opportuno avviare una regolamentazione che effettivamente o comunque approvare una regolamentazione che totalmente ignora la deliberazione di questa attuale amministrazione pertanto nell'ambito del non vado ovviamente a leggere nello specifico quelli che sono gli articoli che contengono l'impianto che sarà poi confermato nell'ambito della futura regolamentazione alla quale l'attuale assessore Montanari e così tutta quanta l'attuale giunta ognuno per quanto di competenza sta cercando di far convergere tutte quante le indicazioni sia di associazioni che di cittadini e cercherà poi di rispondere quando ovviamente questa nuova regolamentazione sarà pronta la devo interrompere è scaduto il tempo quindi semplicemente per dirvi che nell'ambito dell'espressione di parere abbiamo insomma la commissione si è espressa con un voto contrario grazie altri interventi consigliere a biondo grazie presidente ringrazio la presidente della commissione ambiente con la quale abbiamo discusso quest'atto appunto pochi giorni fa con molta sincerità avrei gradito una presentazione dell'atto prima ancora che un intervento di parere personale rispetto alle questioni perché ha citato solamente le criticità e non le questioni che in commissione parimente abbiamo discusso ovvero il merito il merito di quest'atto quindi non pensavo di dover fare questo dato che avevamo chiesto alla presidente di presentare l'atto lei ma lo faccio comunque volentieri perché sempre nella discussione in commissione di qualche giorno fa in cui appunto abbiamo dovuto esprimere parere su questo su questo atto ci siamo trovati a leggere a discutere ad affrontare una delibera molto corposa non solamente per il numero di articoli che non è indicativo ma per la quantità di questioni che vengono trattate in quest'atto anche diciamo riconosciuti dalla maggioranza di questo di questo municipio perché parliamo appunto di un argomento molto molto spinoso nonostante sembri a tutti i cittadini una questione una questione semplice ovvero quella dell'adozione delle aree verdi del municipio in questo atto in questa deliberazione si prende atto di una realtà che nella nostra città esiste da tanti anni ma che l'amministrazione molto spesso non ha gli strumenti normativi per per rendere eseguibile ovvero come sappiamo ci sono tantissimi gruppi di cittadini anche in questo municipio che spontaneamente e con passione e generosità si occupano della manutenzione della pulizia del decoro delle aree verdi di questo territorio però molto spesso questi cittadini non sono necessariamente classificabili sotto il nome di comitato di quartiere associazione organizzazione sono anche a volte dei gruppi di cittadini spontanei che semplicemente sono nello stesso condominio e hanno un'area verde sotto casa sono i genitori di una scuola e vogliono manutenere l'area verde vicino ad una scuola ecco tutto ciò che era spontaneo e che in questi anni è cresciuto nella nostra città e che tuttora appunto ripeto senza una regolamentazione precisa fa un servizio al posto dell'amministrazione non veniva riconosciuto invece in questa delibera si parla di una tipologia di soggetti assolutamente nuova che mi stupisce che il Movimento 5 Stelle non accolga con favore ovvero semplicemente i cittadini attivi cioè io in questa deliberazione rivedo tante delle discussioni che in questi mesi abbiamo fatto in molte commissioni con voi ovvero che non per forza bisognasse essere una formazione sociale formalmente riconosciuta per avere un'interlocuzione con l'amministrazione all'articolo 2 di questa deliberazione si parla di cittadini attivi che anche in forma in modo diciamo informale decidono in maniera condivisa di prendersi cura di queste aree verdi aggiungo anche che proprio perché dicevo che l'atto è molto corposo si parla in quest'atto di un patto di collaborazione che viene fatto tra questi cittadini attivi e l'amministrazione che prevede una serie di oneri da parte dei cittadini stessi ma anche un'assunzione di responsabilità dell'amministrazione che ad oggi come sappiamo permette in modo a volte anche tacito e privo di controlli ai cittadini di occuparsi delle aree verdi ma non si pone il problema di qual è la responsabilità di un'amministrazione nel caso in cui qualcuno si fa male nel caso in cui qualche sterpaglio o albero viene tagliato in modo improprio ecco questo è un tentativo di normare un ambito assolutamente lasciato alla positiva autogestione dei cittadini si parla al comma 3 dell'articolo 2 si parla anche di una questione che io vorrei sottolineare perché secondo me anche in commissione non l'abbiamo fatto nel modo appropriato ovvero si prevede che per la gestione delle aree verdi si possano costruire dei progetti di servizio civile dell'amministrazione e questa potrebbe essere una delle forme con le quali l'amministrazione in maniera sussidiaria si fa coadiuvare dai cittadini nella gestione delle aree verdi l'altra domanda che si fanno tantissimi cittadini comitati associazioni del nostro territorio è ho un'area verde sotto casa me ne occupo da tempo vorrei farlo in modo formale comunicandolo all'amministrazione come devo fare come sapete meglio di me questa procedura non è chiara spesso i cittadini devono fare una domanda altre volte sono stati fatti dei bandi ecco qui viene esplicitato una volta per tutte per tutti i cittadini attivi di Roma Capitale che vogliano occuparsi della gestione di un'area verde che semplicemente si può fare ai municipi al dipartimento una proposta di collaborazione avanzata dai cittadini stessi e che la valutazione e le istruttorie devono essere fatte dal dipartimento o dai municipi a seconda di chi sia la competenza di quell'area e bisogna rispondere entro dieci giorni e non lasciare all'autorietà degli interventi di ciascuno una materia così importante anche alla luce degli avvenimenti di questi mesi perché non possiamo negare che spesso alcuni incendi non tutti perché in quest'anno siamo in un momento particolare per il nostro paese ma che alcuni incendi siano semplicemente dovuti all'incuria di tante aree verdi e che da questo punto di vista l'amministrazione ha un un dovere un dovere in più l'altra l'altra questione che io ritengo molto importante e che ci tengo a sottolineare perché penso che siano delle questioni appunto ripeto che abbiamo discusso in questi mesi seppure rispetto ad altri atti e sulle quali pensavo fossimo d'accordo ma diciamo non non avere chiara la linea politica da questo punto di vista in quest'aula non è una novità è che al comma 1 dell'articolo 6 di questa deliberazione viene previsto che l'amministrazione capitolina può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione ecco noi ci tutti ci riempiamo la bocca ringraziando e dicendo quanto sono bravi i cittadini volenterosi che puliscono la città al posto di ama e dell'amministrazione capitolina ma poco spesso ci poniamo il tema di come incentivare le forme di partecipazione e di come in qualche modo dare un corrispettivo a questi cittadini e a queste forme organizzate che si occupano della gestione del verde pubblico ad esempio l'esenzione di specifici tributi che io in questo caso vorrei declinare con un esempio cioè il gruppo di cittadini che si occupa della gestione di un'area verde che vuole su quell'area verde fare una manifestazione in collaborazione con il municipio una festa di quartiere o qualcosa del genere magari si potrebbe prevedere e questo è specificato dall'articolo 6 che non gli venga richiesta l'occupazione di suolo pubblico perché in qualche modo è una partita di giro per l'amministrazione che ha un servizio garantito tutto l'anno e che per una giornata di festa può garantire l'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito io penso che questo sia un elemento molto importante sia per questa deliberazione ma come voi sapete io ribadisco in tante commissioni perché penso che sia questo il modo di ragionare ammettendo che l'amministrazione purtroppo non ce la fa a fare tutto però la collaborazione dei cittadini non può diventare un alibi per l'amministrazione o una forma di tacito sfruttamento diciamo viene trattata poi anche l'educazione alla cittadinanza attiva e l'educazione ambientale nelle scuole la formazione dei dipendenti comunali e dei cittadini che volendosi occupare del verde pubblico devono però piano piano assumere anche delle competenze su questo e viene prevista chiaramente alcune forme diciamo di riconoscimento che chiaramente non sono delle forme di riconoscimento economiche ma io penso che un'associazione un comitato un negoziante che si vuole occupare di un'area verde possa avere in qualche modo un riconoscimento una menzione una facilitazione nella comunicazione con il territorio elenco tutte queste cose e non per ultimo la trasparenza la misurazione e la valutazione perché in questa deliberazione è esplicitato che i rapporti di collaborazione devono avere una durata minima di un anno e dopo quest'anno deve essere chiaramente fatta una valutazione perché molto spesso invece noi abbiamo assegnato a dei comitati o a delle associazioni delle aree verdi e non abbiamo più controllato se di quelle aree verdi effettivamente se ne prendevano se ne prendevano carico e poi c'è un articolo molto importante che è l'articolo 13 sulla disposizione in materia di riparto delle responsabilità perché come voi sapete quello che le associazioni semplicemente chiedono all'amministrazione è di potersi occupare delle aree verdi ma anche di avere appunto un rapporto chiaro ed esplicito di collaborazione con l'amministrazione per cui non solo ti sto facendo un servizio al posto tuo ma devo anche assumermi la responsabilità di eventuali danni a cose o persone questa cosa viene chiarita e io penso che con tutte le questioni chiaramente migliorabili ma questa delibera mette un punto rispetto ad un argomento poco chiaro il tempo è scaduto sì concludo poco poco chiaro e che io su questo permettetemi di concludere dato che quando trattavamo del punto precedente avete fatto vanto del modo in cui vengono approfonditi gli atti ecco io penso che un atto del genere meritasse più approfondimento mentre abbiamo ci siamo semplicemente limitati a leggerlo nella sua interezza in commissione e in un quarto d'ora è stato espresso parere io diciamo dubito che tutti i consiglieri che hanno espresso parere contrario rispetto a quest'atto avessero avuto il tempo a casa di leggerlo discuterlo e di approfondirlo e quindi vi invito nonostante il parere non credo che fosse che sarebbe diciamo mutato alla fine della discussione però nel momento in cui arrivano degli atti così importanti corposi e di interesse del nostro territorio di dare più dignità a questi atti e di non avere fretta come considerate di non avere di non avere fretta nell'esprimere parere ma di prenderci un po' più di tempo perché a prescindere dal parere che esprime questo municipio io penso che abbiamo tutti da imparare grazie vorrei ancora una volta chiedere rispetto dei tempi non mi fate ricordare che sono scaduti perché insomma abbiamo ancora altri atti e vorrei entrare nel merito della discussione di oggi al punto 5 stiamo discutendo la nostra delibera per espressione di parere contrario quindi è normale che nell'illustrazione non si parli della delibera la proposta di delibera del comune quella è già stata discussa ampiamente in commissione e qui va presentato perché il parere negativo quindi su questo lo vorrei ricordare perché si fa sempre lo stesso errore oggi al punto 5 dell'ordine del giorno abbiamo la nostra proposta di deliberazione di consiglio per espressione di parere negativo contrario quindi di quella stiamo discutendo ok ci sono interventi però vorrei ricordare il tempo consigliere Giuliano lo chiedo anche a lei veramente non mi fate essere cattiva grazie grazie 18.33 fa il mio quindi alle 43 finisco come sto sto grazie presidente giornata di regolamenti quindi quello che dicevo prima non a caso insomma e l'intervento che faccio è obbligatorio cioè mi sento obbligato a farlo anche se ripeto non mi appassiona il regolamento in quanto tale però devo utilizzare questo strumento che mi viene concesso in consiglio per poter comunque dire delle cose collegate all'argomento quindi viene proposto sempre il regolamento e in questo caso per la gestione dell'arie verdi riferito sempre al 2014 ovviamente quando il PD aveva la gestione del comune come era con l'altro insomma che era prima che abbiamo votato quindi nel 2014 e questo è il periodo in cui appunto si era fatto un certo tipo di lavoro ora nell'intervento la collega Biondo insomma mi ha lasciato alcune riflessioni che prima non mi erano arrivate nell'atto precedente in questo invece devo dire che c'è qualcosa che comunque invece condivido nell'impostazione e nell'intervento diciamo nella valutazione perché in commissione abbiamo fatto questo tipo di lavoro abbiamo cercato di fare questo tipo di lavoro certo è che si arriva sempre poi a limitare tutto questo ragionamento solo ed esclusivamente ai cittadini attivi perché questo poi è il concetto è il fulcro di questo regolamento cioè di quest'atto cercare di dare una collocazione al cittadino attivo perché? perché le associazioni si muovono in un certo modo e quindi hanno una forma giuridica e i comunali di quartiere quindi hanno la loro sempre rappresentazione giuridica esistono degli strumenti già in atto che sono le sponsorizzazioni delle aree verdi e l'aduzione delle aree verdi che esistono già da qualche anno e quindi anche lì c'è la rappresentazione di chi vuole intervenire e poter insomma rendersi positivo nel decoro delle proprie aree diciamo verdi che può diciamo di cui si può interessare anche i condomini hanno questo tipo di formula che possono prendere in esame certo rimane il cittadino singolo rimane fuori perché la giurisdizione comunque sia cittadino singolo non ha quella sua valutazione giuridica cioè se non no per se stesso e quindi poi vi viene l'assonanza cittadino attivo retake cioè io ce l'ho detto in commissione io rispetto tutti per l'amor di Dio ma non mi voglio sentire in difficoltà se io non mi alzo la mattina e vado a pulire il giardino sotto a casa mia voglio dire non voglio criticare chi lo fa perché se lo può fare ha voglia di farlo eccetera ma io non mi devo sentire in difficoltà se questo non non lo metto in atto perché perché comunque esiste una struttura esiste un'amministrazione esiste esistono degli strumenti che vanno utilizzati per fare questo quindi esiste una municipalizzata per la pulizia delle strade esiste appunto un dipartimento per il decoro e per le aree verdi certo oggi come oggi stiamo in difficoltà ed è una difficoltà talmente evidente che non è che nasce non mi ascoltano presidente no lei no loro stanno a parlare sottovoce eh allora dicevo che siccome appunto c'è una difficoltà evidente e siccome è stato volutamente negli anni negli ultimi vent'anni sempre peggio proprio perché parliamo di aree verdi smembrato quel meccanismo che tutti abbiamo detto in commissione lo sappiamo tutti ma io lo voglio ridire utilizzo questi minuti siamo a 38 ce ne sono andati a 5 questi minuti per dire che abbiamo smembrato nel tempo un servizio giardini che comunque avrebbe dato ad oggi una grandissima risposta a questo problema ma grandissima l'avrebbe data invece qual è stata la politica quella è stata di diminuire la diciamo la forza interna all'amministrazione per esternalizzare alle cooperative associazioni eccetera eccetera ma questa è stata una politica che ha fatto ovviamente chi di dovere quando era era interessato ad esternalizzare e quindi dare lavoro a gente esterna per avere poi dei consensi solo che questo sistema purtroppo non ha tenuto non per la cattiva la cattiva il cattivo come si dice per il cattivo progetto no perché il progetto cioè l'idea è anche positiva il problema è che non tiene quando tu paghi 5 euro l'ora chiunque viene a fare un lavoro capito esternalizzato quindi a tempo determinato e quando poi chi paga quel soggetto comunque costa dei 15 ai 18 euro l'ora ma gliene arrivano solo 5 più 50% di contributi arriviamo quasi a 9 e gli altri 6-7 euro si disperdono quindi all'amministrazione quindi la grande bufola che ci hanno raccontato negli anni è che all'amministrazione non c'era risparmio esternalizzando e il costo era lo stesso conveniva quindi assumere direttamente questo questo conto me lo sono fatto me lo sono fatto quando mi sono trovato in regione qualche tempo fa qualche anno fa e si parlava appunto dell'apertura del Sant'Andrea e bisognava mettere il personale dentro allora siccome gli ospedali sono regionali e quindi erano anni che non si facevano bandi regionali per infermieri e quant'altro e allora si prendevano le cooperative e assumevano inservienti eccetera e al costo di 5 euro e 56 euro l'ora questo era il costo ma quanto povero costa quindi risparmi a regione per fare questo ragionamento no sempre 18 euro 17 euro l'ora mi costa e se vai a vedere ti costa pure indipendente tra virgolette quella cifra perlomeno tu ce l'hai alle tue dipendenze e non ce l'hai ma questo lo dico perché non a caso vi potete esimere perché la battuta c'è anche per voi bisogna oltre ai regolamenti che se ne possono fare 50.000 bisogna comunque intervenire nel portare questa città ad una progettualità interessante e intelligente cioè bisogna comunque puntare sul decoro bisogna puntare sul discorso delle aree sulla loro manutenzione perché comunque sia nell'immaginario collettivo se voi andate in giro e lo fate come lo faccio io e tutti i vari cari consiglieri e chiedete alla gente se sono soddisfatti di quello che vedono tutti dicono di no perché perché nell'immaginario collettivo non funziona nulla secondo il meccanismo diciamo secondo un istinto diciamo veloce perché sporco perché non c'è sistemazione perché l'erba da tutte le parti non viene tagliata le marciapiedi i cigli e le rotonde c'è i muri sporchi con le scritte eppure effettivamente si potrebbe si potrebbe fare e questo municipio lo potrebbe fare una diciamo progetto pilota un progetto pilota dove poter intervenire anche con l'AMA in una figura di decentramento lo diceva qui il direttore generale Bina quando abbiamo fatto il consiglio sui rifiuti di poter comunque decentrare una parte funzionale dell'AMA al municipio consigliere Giuliano tempo scaduto no no manca un minuto ho preso prima per essere preciso con lei ma caspita un minutino va bene allora io lo concedo quindi questo che cosa significa significa che se riusciamo a fare questo tipo di ragionamento si riesce a togliere a risolvere quella parte diciamo macroscopica macroscopica della visione di cui tutti noi ci rendiamo conto che stiamo in una situazione di difficoltà poi certo c'è bisogno di programmare e bisogna ritornare a programmare non a fare emergenza bisogna programmare piano piano e rimettere in piedi un servizio che è fondamentale la vittoria per i prossimi dieci anni sulla città di Roma va per quanto riguarda la manutenzione di tutto quello che c'è del decoro di tutto quello che c'è è una sfida in questo senso e chi riesce a farlo e chi riesce a far rispettare questa città per le peculiarità che ha quindi anche il turismo perché se tutto funziona meglio anche il sistema turistico riprende ovviamente e migliora chi riesce a fare questo vince al di là dei regolamenti quindi per non essere prima croce rossa no la collega mi ha leggermente come si dice favorito il mio no sei stata brava nel mettere meglio la situazione e quindi i fratelli d'Italia quindi risparliamo dopo per perfetto piena di gratitudine oh risparliamo dopo l'intervento per il voto quindi per la la dichiarazione di voto si astiene va bene quindi ho fatto tutto uno grazie è brevissimo è brevissimo allora vada allora non lo faccio no no vada sto scherzando veramente che fa caldissimo qui dentro tranquillamente domani affrontiamo anche dobbiamo anche parlare tra le varie eventuali del baratto amministrativo che interseca con questo argomento dovremmo annunciarlo almeno perché è arrivata la richiesta di parere a quel punto affronteremo perché in realtà noi per le aree verdi è un argomento estremamente delicato cioè noi non scusate finisco subito cioè non lo faccio lo sta facendo ormai lo sta facendo se noi guardiamo le aree verdi del nostro municipio sono qualche cosa di enorme dobbiamo fare una scelta perché assumere potrebbe essere una scelta a parte il fatto che poi non assumiamo noi però non credo che sarebbe risolutivo dobbiamo trovare delle forme di collaborazione di cittadini interessati che però dovremmo meglio precisare partendo da qualche cosa di diverso noi parliamo sempre di associazioni di comitati eccetera facendo riferimento alla normativa civilistica che riguardava gli aspetti patrimoniali le forme di collaborazione con la pubblica amministrazione da parte dei cittadini non sono state analizzate studiate e dettagliate quindi dovremmo partire anche chi sono e come si devono configurare gli interlocutori perché se no come diceva giustamente prima il consigliere Giuliano quando poi mettiamo le cose in mano le cooperative che sono delle forme tradizionali di associazioni di individui a un certo punto ci troviamo di fronte a delle sorprese che poi tanto non sono quindi il discorso è estremamente interessante però occorre uno sforzo ripeto di approfondimento e di innovazione che è veramente cospicuo quindi concordo anche con la consigliera Biondo in effetti bisognava però ecco non possono essere presentate cioè queste cose devono partire da da questo approfondimento che secondo me è indispensabile perché poi ripeto quando parleremo del baratta a un certo punto c'è un overlapping tra quello che viene detto qui e quella che è la proposta del baratta amministrativo quindi bisognerà anche fare le forme di collaborazione dei cittadini con la pubblica amministrazione sono qualche cosa che stiamo impiantando adesso perché prima in effetti sono tante forme sporadiche che si agganciavano alla struttura privatistica ho finito scusate ci sono consigliere Toti chiedo anche a lei la puntualità sì io non volevo neanche intervenire perché voglio dire già era stato detto molto a parte in questo caso anch'io vedo uno sforzo positivo la consigliera del PD rispetto a questa proposta infatti ci sarà l'astenzione diciamo che era un fiore all'occhiello di Roma io dico anche il decoro negli anni passati e anche soprattutto la scuola giardinieri che la scuola giardinieri che poi stava al confine del nono municipio praticamente era una scuola a livello europeo se non mondiale perciò potevamo dire la nostra purtroppo le amministrazioni negli anni passati rispetto a questo hanno fatto degli errori colossali c'è stata l'esternalizzazione alle cooperative che è inutile risparare sulla croce rossa perché già abbiamo sparato prima voglio dire che dovono essere una realtà un privato sociale che dovrebbe essere un momento di sussidiarietà non è riuscita a svolgere questo questo ruolo però rimane rimane inteso che il ruolo dei cittadini che si organizzano e che sono che fanno progetti come diceva qualche consigliere ma preceduti rispetto a questo perché è importante la progettualità è importante il ruolo sussidiario però il ruolo sussidiario deve essere fatto correttamente e deve essere anche regolarizzato correttamente e su questo come hai detto ha detto il consigliere che mi ha preceduto non è così facile non è che così al volo si possono fare certe cose richiede proprio perché passiamo da un discorso positivissimo del passato con la squadra giardiniera poi a un discorso disastroso a vari livelli della partecipazione attraverso le cooperative perciò il privato sociale e oggi dobbiamo scegliere un'altra cosa però ecco voglio dire e con tutti bene i crismi in modo che riusciamo finalmente finalmente a organizzare una cosa dal basso che è la cosa più giusta però che funzioni cioè non sia soltanto un momento di proposta culturale no dice vabbè la sussidiaria ruolo è cosa così la sussidiaria orizzontale sia un discorso serio che dia finalmente risposte dal basso ai problemi di agente questo altri interventi no se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto ci sono dichiarazioni di voto lei l'ha già fatta grazie mille non ci sono dichiarazioni di voto allora passiamo alla votazione ah consigliere Abiotto sì penso che sia penso che sia scontato anche in questo caso votiamo come prima quindi dobbiamo esprimere il parere al parere no è già scritto il parere come le ho detto prima c'è già il parere contrario scritto sopra va bene quindi noi siamo contrari al parere contrario sì grazie votazione allora votazione dipende ah se è dichiarazione di voto non avevo capito come no semplicemente per ribadire sicuramente sarà oggetto di una piccola chiosa della prossima commissione ambiente appunto il documento uscito dalla delibera 66 per fare in modo così di vedere tutti insieme quanto già nelle linee guida proposte dall'attuale amministrazione di ciò che ci siamo detti sia già stato scritto quindi forse è giusto fare un approfondimento finora non l'avevamo ancora fatto lo faremo insieme quindi per ribadire la questione dei cittadini attivi è ovviamente un elemento positivo però tutta una serie di altre attività o comunque di situazioni che potevano essere totalmente che sono totalmente in contrasto con lo spirito della 207 del 2014 necessariamente ci ha visti appunto non favorevoli non tanto solamente appunto per la disamina ben rappresentata appunto dal dipartimento bensì proprio dal contenuto degli articoli che erano totalmente in contrasto con la razio che appunto conferiva una prelazione secondo noi ovviamente non legata allo spirito di liberalità che il cittadino attivo ha come animus nella sua attività di ripristino del decoro di ciò che gli è prossimo o di ciò che magari maggiormente lo interessi proprio appunto quell'articolo 6 al comma 1 vede appunto si dicevamo l'articolo abrogato dall'articolo 217 del decreto legislativo 50 ed è per questo che insomma se dobbiamo ravvisare nell'ambito dell'articolo 18 quindi della sussidiarietà ci dobbiamo sempre ricordare che l'ente più prossimo quindi l'ente locale più prossimo più vicino al cittadino è necessariamente tenuto ad avvalersi di quelle che sono delle forme di collaborazione da parte dei cittadini perché nel corso degli ultimi soprattutto 20 anni c'è stato uno smantellamento progressivo del welfare e quindi io vorrei semplicemente fare questa piccola chiosa comunque noi siamo e confermiamo appunto la maggioranza è contraria insomma al parere favorevole al parere contrario già espresso in commissione il giorno 21 grazie che è un'altra dichiarazione di voto che mi sono persa no allora votiamo favorevoli al parere contrario sull'atto contrari astenuti e quindi l'atto viene approvato con espressione di parere contraria contrario allora siamo al punto successivo al punto numero 6 che è la proposta di deliberazione di iniziativa dei consiglieri Ariano Zitori De Chiara Triputi La Zazzera Giannone Guido aventa ad oggetto modifica la delibera numero 5 del 14 marzo 2017 abrogazione e sostituzione del regolamento dell'osservatorio municipale permanente rifiuti che era oggetto della delibera numero 5 del 14 marzo 2017 sostanzialmente l'atto recepisce quelle che sono state valutate da parte insomma delle insomma ci sono stati vari contatti da parte dei cittadini di associazioni e di comitati che ci ponevano ci rappresentavano nell'impianto la poca snellezza dell'organismo che stavamo andando a far avviare appunto nei lavori per cui recependo e rendendoci conto effettivamente che avendo necessità e comunque essendo desiderosi di far sì che la maggior parte della popolazione interessata comunque attraverso insomma gli associazioni o comunque i comitati che possano presentare la propria richiesta di insomma di partecipazione con in allegato lo statuto o di poter in astratto essere se interessati facenti parte appunto di questo di questo organismo che è uno strumento che è soprattutto e sarà uno strumento della commissione ambiente pertanto rispetto all'impianto originario il regolamento si compone di un numero inferiore o minore di articoli ha una facilità maggiore nell'ingresso il numero delle componenti civiche passa da 8 a tra virgolette indefinito per cui potranno essere 8 o 6 piuttosto che anche di più ovviamente noi speriamo e modifichiamo diciamo l'impianto originario che tanto avevamo dibattuto in commissione ambiente proprio per far sì che i cittadini partecipino così come hanno dimostrato nell'interesse appunto dell'avvio di questo organismo e quindi il parere della commissione è stato ovviamente favorevole nei confronti di quest'atto io non non mi dilungherei perché così insomma se abbiamo delle altre cose grazie altri interventi non ci sono interventi consigliere Giuliano allora per essere più veloce però possibile non a caso parliamo sempre di approvazione regolamento revoca sempre regolamento cioè la parola ormai oggi è questa quindi non mi fate vedere altri atti in giro che se non c'è sta la parola regolamento perché io non li voto cioè solo su regolamento voglio parlare no questo per dire che comunque è un like motive insomma che si si ripresenta e quindi diventa un combinato disposto insomma un po' pesante perché parlare sempre di regolamenti dici qualcuno questo sporco lavoro lo deve pur fare e vabbè e lo facciamo quello che entrando nel merito della come si dice del discorso dell'osservatorio volevo mettere in evidenza che fortemente in commissione abbiamo fatto appunto delle riunioni in commissione e fortemente si è arrivati alla consapevolezza che questo osservatorio deve essere uno strumento totalmente collegato alla commissione stessa non siamo partiti così bisogna dire appunto che insieme ad un'altra collega insomma biondo che sta in commissione abbiamo ragionato c'era una maglia più larga prima più diciamo meno ingessata diciamo così forse più naturale però ragionando e ragionando abbiamo verificato che per essere cioè per far sì che questi strumenti possano essere utili debbono stare in correlazione con la commissione di pertinenza perché se no effettivamente di che cosa stiamo parlando stiamo parlando che qualcuno tutti possono dire il contrario di tutto allora a noi non serve questo a noi serve condurre delle tesi degli argomenti delle riflessioni condurle nel loro abitato naturale che è la commissione per quanto ci riguarda e poi l'atto definitivo in consiglio per cui se questa questo osservatorio ha la figura quindi il biglietto da visita che ne deriviamo è quello di poter comunque in tutti i modi gestire ed essere diciamo organici alla commissione va bene questo mi sembra che è stato è stato il fine politico al di là delle rappresentanze al di là dei cittadini per l'amor di Dio spesso e volentieri ci riempiamo la bocca con questa parola cittadini però c'è la rappresentanza di qualcosa che possa essere utile bene deve essere messo a disposizione della commissione quindi il presidente della commissione il presidente dell'osservatorio quindi i due vicepresidenti devono coordinare i lavori in questo senso perché non deve sfuggire nulla per non strumentalizzare meccanismi che vanno al di là a noi non ci serve qualcuno che ci fa perdere tempo perché facciamo già fatica a noi ci serve qualcuno che ci darà la mano e per darci la mano deve lavorare in sintonia quindi al di là di tutto quello che c'è scritto qui tutto insomma il papiet le premesse eccetera eccetera io penso che il fine possa essere questo e quindi se lo mettiamo in questo quadro Fratelli Italia sarà favorevole consigliere Biondo grazie presidente sì intanto fatemi aggiungere una cosa fondamentale a quello che diceva il consigliere Giuliano che sebbene non è come abbiamo potuto capire appassionati di regolamenti di certo però data la sua esperienza non gli sfuggerà una cosa fondamentale di quest'atto ovvero che a differenza di tante altre modifiche regolamenti che ci troviamo a fare in quest'aule che come dicevamo poc'anzi sono legittimi perché come ci ricordava la maggioranza del Movimento 5 Stelle è giusto io lo condivido che chi vinca che vince detti la linea politica e che quindi possa modificare i regolamenti vigenti in questo caso ci troviamo ad abrogare e sostituire un atto votato da questo stesso consiglio non sotto Veltroni Rutelli Alemanno o Marino ma dagli stessi consiglieri me compresa che sono presenti in quest'aula e io penso che questo sia una questione non e lo dico sinceramente pretestuosa ma un argomento di cui dobbiamo prenderci tutti la responsabilità di discutere e di approfondirlo perché se facciamo finta che abrogare un atto che abbiamo condiviso e votato e io mi sento di dirlo perché vi ricordo che a marzo quando abbiamo votato il primo regolamento sull'osservatorio dei rifiuti il Partito Democratico ha votato favorevolmente proprio perché pensiamo che questo sia un tema fondamentale e nonostante il Comune di Roma Roma Capitale a marzo né tantomeno oggi abbiano fatto il regolamento del Comune di Roma per la costituzione dell'osservatorio comunale noi pensavamo di andare avanti di fare diciamo l'avanguardia rispetto al Comune per partire subito non solo così non è stato perché da marzo ad oggi l'osservatorio non si è costituito ma ci troviamo oggi ad abrogare un nostro stesso atto questo non è per dire che siamo stupidi o facciamo schifezze qua dentro ma perché proprio perché qualcuno di voi prima diceva il contrario che quando dalle opposizioni vi suggeriamo di avere più pazienza perché gli atti necessitano un approfondimento maggiore perché non basta sapere cosa si pensa perché questo è assolutamente legittimo ma bisogna effettivamente confrontarsi con gli esiti come diceva prima il consigliere Giuliano con la pratica delle cose che noi qui dentro discutiamo semplicemente in teoria non è una provocazione è la verità e l'atto che noi oggi stiamo discutendo oggi dimostra che non era una polemica inutile ma che forse ogni tanto avevamo ragione nel dirvi che sarebbe stata necessaria qualche commissione in più e molta fretta in meno per fare direttamente forse non a marzo ma ad aprile un atto che però non ci saremmo ritrovati a discutere dopo altri cinque mesi e quindi ad annullare interamente un percorso sia dal punto di vista politico ma dato che ci tenete tanto anche dal punto di vista economico per questa amministrazione perché noi per arrivare a marzo ed era un percorso che come sapete io ho molto apprezzato perché ho partecipato anche alla discussione al miglioramento di quell'atto e nonostante c'erano e ci sono delle questioni che io non condivido in primo luogo il fatto che nonostante sia ancora vigente perché da questo punto di vista bisogna dare atto a questa maggioranza che è più avanti del Comune di Roma ma nonostante sia attualmente vigente la delibera 129 che normava per il Comune di Roma l'istituzione di questi osservatori verso rifiuti zero questo regolamento del settimo municipio attualmente va in contrasto alla delibera 129 è una scelta politica però in questi cinque mesi di inerzia perlomeno si sarebbe potuto suggerire al Comune di Roma di andare nella stessa direzione per non ritrovarci nella discussione di luglio ancora una volta ad approvare un atto che è in difformità rispetto ad una delibera del Comune di Roma che ritengo sia una fonte normativa superiore da questo punto di vista vi dicevo io come sapete ho partecipato abbiamo anche votato l'atto di marzo proprio per questi motivi e abbiamo fatto tante commissioni e questo bisogna darne atto alla Presidente perché veramente su questo non credo e sono convinta in tutta la buona fede di quelle commissioni però nelle commissioni come voi sapete non solo utilizziamo il nostro tempo e dobbiamo dare conto ai cittadini ma veniamo come spesso ci ricordate pagati per discutere e approfondire come giusto che sia ecco noi abbiamo fatto almeno quattro commissioni prima di approvare quell'atto a marzo un consiglio in cui l'abbiamo approvato oggi ci ritroviamo a riapprovarlo e ad aver fatto altre due commissioni per discuterlo probabilmente su questo sì c'è stato uno spreco di risorse pubbliche avremmo potuto fare forse appunto una commissione in più a marzo e discutere approfondire ascoltare qualcuno come vi avevamo suggerito e che invece a suo tempo non è stato fatto invece oggi viene portato un atto che viene modificato perché giustamente ammettete che le associazioni comitati e i cittadini interessati all'osservatorio hanno fatto notare che c'era qualcosa che non andava questo è un lavoro che avremmo serenamente potuto potuto fare prima e forse oggi invece di stare in consiglio fino alle otto saremmo stati alla quarta o quinta riunione dell'osservatorio sui rifiuti del settimo municipio velocemente per entrare nel merito mi dispiace solo una cosa rispetto alle premesse della scorsa del regolamento che abbiamo approvato a marzo perché era una cosa sulla quale mi ricordo avevo insistito molto sulla delibera 129 non vi piaceva e non l'abbiamo voluta citare e va bene però avevamo citato mi sembra la proposta di iniziativa popolare che portò a suo tempo all'istituzione del gruppo zero waste e delle osservatori verso rifiuti zero del comune di Roma non mi sembra che sia nuovamente citata in questa deliberazione e questo mi dispiace perché penso che se noi comunque oggi stiamo discutendo nel merito con tutte le questioni su cui possiamo essere d'accordo o meno però è grazie ad un gruppo di cittadini che in tempi non sospetti hanno posto all'attenzione dell'amministrazione questo tema e non valorizzarli nonostante diciamo e quindi eliminarli perché nel precedente regolamento lo voglio ricordare li avevamo inseriti e vi avevo ringraziato per aver accolto questa proposta a eliminarli adesso mi sembra quanto meno diciamo poco educato sul numero dei componenti voglio dire che noi siamo d'accordo sulla modifica che è stata fatta potete andare a leggere i verbali di commissione di marzo in cui non ci spiegavamo effettivamente questo numero 8 a cosa fosse dovuto ci avevate però spiegato non convinto però era una posizione legittima che il numero ristretto dei componenti era dovuto al fatto che l'osservatorio doveva avere un carattere tecnico molto elevato e che all'interno dell'osservatorio dovevano esserci personalità che sul tema dei rifiuti portassero non problemi e quindi non fosse un luogo in cui si discuteva dei problemi dei rifiuti nel nostro municipio ma fossero persone altamente qualificate che proponessero soluzioni vi ripeto noi eravamo per allargare la partecipazione all'osservatorio dei rifiuti ci avevate spiegato invece questa questione l'avevamo accettata perché era una posizione politica ora non capisco perché si è completamente ribaltata la posizione del Movimento 5 Stelle quindi questo non sarà più un organismo tecnico di approfondimento altamente qualificato sarà un luogo in cui tutti i cittadini e le associazioni che si occupano di questo tema potranno intervenire io sono d'accordo però vi rilevo che diciamo non solo dal punto di vista numerico i cittadini hanno fatto un appunto ma questo appunto ha portato addirittura nel giro di 5 mesi a trasformare completamente la vostra visione dell'utilità e della funzione di questo osservatorio l'altra questione è la valutazione dei membri cioè chi fa richiesta di partecipazione all'osservatorio come viene valutato sono contenta invece che in questo caso è stata lasciata la valutazione ai membri di diritto dell'osservatorio perché come ricordate la vostra proposta iniziale era quella di farli scegliere direttamente alla presidente del municipio e chiaramente non potevamo essere d'accordo perché per quanto la nostra proposta rimaneva quella che la valutazione venisse fatta dalla commissione ambiente comunque la valutazione da parte dei membri di diritto ha un un certo livello di garanzia perché è comunque un organismo collegiale rispetto alla scelta di una presidente del municipio che per quanto chiaramente onesta e senza diciamo altri fini però non garantiva un intero territorio rispetto alla scelta dei singoli partecipanti l'ultima cosa sulla quale invece non siamo assolutamente d'accordo e che va assolutamente in contrasto con la delibera 129 che ripeto nonostante non vi piaccia è attualmente in vigore è il fatto che il presidente dell'osservatorio viene esplicitato nella delibera 129 non debba in alcun modo essere interno all'amministrazione o ad ama ma debba essere è scaduto il tempo intanto l'avverto mi prendo veramente solo un minuto ma ci tengo ma debba essere un membro esterno su questo vi ricordate come proprio la consigliera Zitoli nelle commissioni di marzo mi spiegò che era importante che fosse un membro esterno e mi disse addirittura che voi sareste state contenti se veniva una persona altamente qualificata da Milano per aiutarci a risolvere il problema dei rifiuti nel settimo municipio va benissimo giusto ma invece anche da questo punto di vista la vostra opinione la funzione che deve avere la presidenza dell'osservatorio è completamente cambiata e quindi la presidenza dell'osservatorio sarà data al presidente o a uno dei due vicepresidenti della commissione quindi tutta una cosa interna all'amministrazione io su questo non capisco come se tante questioni per poca a volte competenza su alcuni temi come è legittimo perché facciamo politica non facciamo diciamo gli ingegneri ambientali nella vita come una questione che non riusciamo a risolvere in commissione si possa invece risolvere nell'osservatorio se poi a presiederla siamo diciamo sempre gli stessi grazie sì altri interventi consigliere Guido grazie presidente io farei un intervento piuttosto breve di natura politica e non tanto tecnica io devo dire abbastanza apprezzato in questo caso la partecipazione che il partito democratico ha voluto offrire ai lavori su questo argomento e come ha ricordato la consigliere che mi ha preceduto ci sono state diverse commissioni scaglionate in diversi mesi di consigliatura faccio riferimenti a pochi punti intanto il fatto di riportare in aula una delibera che è di nostra emanazione io non lo vedo proprio ma questo l'ho già detto in commissione quindi lo ripeto come un punto di debolezza anzi è tutto il contrario è un punto di forza perché significa che abbiamo non solo il coraggio ma anche l'apertura mentale di capire quando un atto è possibile migliorarlo ancora di più io questo già l'ho spiegato in commissione e ci tengo a ribadirlo anche in consiglio non è una cosa da poco su alcune cose è possibile che siano più avanti del comune su altre cose è possibile che il comune sia avanti a noi tutto si può dire tranne che non ci prendiamo la responsabilità di quello che facciamo e questo lo abbiamo espresso in questo anno di consigliatura e lo esprimeremo anche nei futuri quattro anni poi devo dire per quanto riguarda alcuni cambiamenti e concludo c'è di fatto c'è stata una valutazione politica anche qua non tanto tecnica di riportare l'osservatorio nell'alveo dell'attività prettamente politica questo sta a significare che i cambi effettuati in delibera vanno in questa direzione anche alla luce delle esperienze che abbiamo avuto con l'altro osservatorio che invece è quello dell'azzardo che comunque ci ha avuto un suo corso e sta ancora andando con un modello che in parte abbiamo voluto ci può riproporre nella delibera sull'istituzione dell'osservatorio dei rifiuti sulla apertura invece sull'aumento del numero dei partecipanti è presto detto perché il territorio si è espresso con noi in questi mesi e affermando in più sedi e in più situazioni ci deve avere interesse e pertanto ci è sembrato legittimo e aprire anche a questa possibilità e questo è quanto quindi noi siamo qua con la nostra consueta forza con la nostra consueta unità per cercare di formare in questo caso un organismo che possa essere di supporto alla commissione su un tema così caldo come quello dei rifiuti e sullo studio c'è legato allo smaltimento ma anche alla ricerca ma anche agli aspetti più pratici e non solo teorici degli stessi grazie ci sono altri interventi consigliere Ciancio e consigliere Totti grazie grazie presidente solo pochi minuti per per dire che io apprezzo molto l'atteggiamento dinamico a qualsiasi età anche quelli cioè quando si ha il coraggio di cambiare è una cosa bella bellissima però prima bisogna mettere sempre il pedalino e poi la scarpa se noi mettiamo prima la scarpa e poi cerchiamo di mettere il pedalino non funziona non va bene quindi prima ascoltiamo i cittadini e dopo avventuriamo a fare tutto quello che si deve fare io ho notato questo guarda il fatto della guardate perdonatemi mi perdono il capogruppo se mi ho dato era lui che mi riferivo la delibera 129 è un punto importante cioè il presidente dell'osservatorio che sia un soggetto estraneo all'amministrazione non dovrei essere io la consigliera biondo a dirlo ma deve essere come dire per voi un solco una una stella polare di fatto poi non lo è oppure i rappresentanti i membri dell'osservatorio cioè nel primo municipio hanno fatto le elezioni per gli eletti dai cittadini non che uno li sceglie così d'accordo potremmo pure scegliere però io dico esempio del primo municipio dove mi sembra che non ci siano stati contrasti con i consiglieri di minoranza che in quel caso erano i pentastellati e allora dico lì si è votato e non erano non coincidevano con quelli che questa nuova delibera questo nuovo regolamento vorrebbe istituire oramai siamo qua stanchi dopo come dire una giornata dedicata ai regolamenti a me piacerebbe dedicare qualche giornata a a dire quali sono le cose che realmente siamo riusciti a portare a casa perché in questo panorama che vedo e ci raccontano i cittadini la situazione non è per nulla confortante sotto l'aspetto poi dell'osservatorio dei rifiuti quello che chiedevamo rispetto agli utenti serviti per il porta a porta la delibera della regione che finanzia il porta a porta tutto questo che debba essere poi sottoposto a un osservatorio io dico che è sotto gli occhi di tutti il disastro quindi non aspettiamo l'osservatorio per cercare di trovare una soluzione corretta ma la soluzione corretta è quella intanto come dice a volte il consigliere antico Giuliano il consigliere antico Giuliano spesso dice che bisogna percorrere la strada maestra la strada maestra per me non è quello cioè in questo momento osservatori regolamenti la strada maestra è quella del fare del pragmatismo come dire veloce incisivo se mi sono permesso di dire alla Presidente in aula alla Presidente del Municipio che per quanto riguarda Piazza Re di Roma e zone limitrofe la situazione è un degrado generalizzato non c'è bisogno dell'osservatorio o di qualcuno che me lo debba venire a dire da Milano o da Novara non c'è bisogno c'è bisogno solamente di dire vediamo se il contratto di servizio viene rispettato vediamo se lo puliscono con la spazzatrice oppure con l'idropulitrice ma che ci sia un controllo indirizzo e controllo su quello che sono gli elementi semplici con l'amministrazione che si è candidata a guidare questa città difficile complicata dove nuovi fattori stanno subentrando rispetto al panorama che vorrebbero imputare a questa nuova amministrazione condivido però sui fatti dell'amministrazione semplice trasporto nettezza urbana non ce n'è una che funziona e allora noi qua stiamo a discutere mi sarebbe piaciuto discutere oggi perché via abbiamo fatto una strada e nessuno gli ha detto visto che la fa di 40 cm più bassa di ripristinare le quote originarie e allora faccio un esempio possiamo rimanere in tema guardi io l'ho chiesto non per una cortesia non solo perché abbiamo altri due atti da votare no no io le sto chiedendo una cortesia sono una cortesia rimaniamo in tema era un esempio del fatto dell'osservatorio che si occupa di rifiuti di dare formulare dei progetti degli indirizzi quali progetti noi intanto come amministrazione siamo in grado di proporre non certamente non è che aspetto all'osservatorio per farmi dire che statuario ha un problema grosso sul camio che non riesce a predisporre la risalita dei cassionetti a volte per l'incuria e l'indisponibilità dei residenti a parcheggiare bene le macchine abbiamo visto ieri dell'immagine di un carro fune perché non per me è parcheggiato dove c'erano i secchi dell'immondizia questo ieri sera alla grande bruttezza io voglio dire è questo l'atteggiamento dinamico l'atteggiamento che io condivido il coraggio che diceva il consigliere capogruppo deve essere questo proprio per questo io sono molto critico rispetto a questa valanga di regolamenti e ritengo che la strada maestra sia quella di interpellare prima i cittadini sempre dove con semplicità diranno che i problemi si risolvono in modo semplice senza predisporre tavolate o enormi e giganteschi uno strumento di partecipazione perché l'ha detto la presidente della commissione quando anche perché un consigliere d'opposizione mi ha preceduto ha detto deve essere uno strumento della commissione ambiente uno strumento collegato alla commissione ambiente perciò il fatto dei cittadini che sono protagonisti attraverso l'osservatorio insieme con tutte le realtà e si mettono a supporto della commissione io penso che sia un fatto positivo in termini di partecipazione quando parliamo di partecipazione dobbiamo vedere il termine con chiarezza l'osservatorio è un strumento che amplifica il discorso della partecipazione perciò rispetto a questo bisogna dire delle parole precise perché anche i consiglieri sono espressione della partecipazione però se i consiglieri poi condividono con i cittadini anche in modo continuo le scelte che fanno in commissione è un rafforzamento di uno strumento che io vedo essenziale ma questo non perché dobbiamo dire tutti viva la marchesa o altre cose perché voglio dire sappiamo che il servizio AMA funziona con difficoltà io penso questo lo dicono tutti lo dice la maggioranza lo dice l'opposizione lo dicono tutti è chiaro bisogna trovare dei strumenti correttivi per far funzionare meglio l'AMA sia a livello municipale e sia a livello cittadino ma io ho chiesto esaltando sempre il discorso del decentramento il discorso il fatto che si può e si deve andare verso un contratto di servizio decentrato mi sembra pure che l'AMA ha parlato di una possibilità di un discorso di questo tipo è chiaro che la modifica del contratto di servizio a parte il discorso del decentramento del contratto di servizio che purtroppo negli anni ancora non è stato fatto e sarà tutto oggetto di discussione dell'osservatorio ma non soltanto dell'osservatorio della commissione del consiglio non è che l'osservatorio deve usurpare ruoli tutti quanti hanno un ruolo e il discorso dell'osservatorio è soprattutto per me almeno io lo vedo uno strumento partecipativo a supporto della commissione perciò poi voglio ricordare che sono state fatte delle modifiche l'abbiamo votato tutti favorevolmente e modifiche che comunque non hanno cambiato la radice del discorso radicalmente rispetto all'osservatorio sono stati fatti degli aggiustamenti rispetto a questo e anche il ruolo che poteva essere sia politico e sia a livello di partecipazione della presidenza è chiaro che tutte e due potrebbero andare bene la maggioranza la maggioranza ribadito che proprio dando la presidenza a un consigliere che fa parte chiaramente della della commissione ambiente scelto fra il presidente e i due vicepresidenti vuol dare maggiore peso politico alle scelte dell'osservatorio ecco ai cittadini interessa che il servizio ama funzioni il discorso dei bizantinismi che a qualche volta hanno pure un loro significato interessa relativamente io vorrei che questo osservatorio partisse subito riuscissimo realmente a fare cose concrete nell'interesse dei cittadini e a migliorare finalmente questo servizio che bisogna riconoscerlo zoppica un po' zoppica un po' sei d'accordo? zoppica un po' zoppica un po' io non so niente io mi rimetto alla corte e funziona relativamente e deve essere chiaramente migliorato fortemente io penso che un ruolo importante sia anche e non soltanto quello dell'osservatorio ci sono altri interventi? non ci sono altri interventi andrei con le dichiarazioni di voto ci sono dichiarazioni di voto? o ci siamo già tutti più o meno espressi? ci siamo espressi voglio utilizzare la dichiarazione di voto leggo da qua ce lo ricorderemo leggo da qua la dichiarazione di voto breve presidente allora per dichiarare il voto io parto dicendo che l'utenza potenziale privilegiata il ribaltamento della logica assistenziale al di sopra di interessi e pressioni di parte recuperando ovviamente e rivalutando in un ambito territoriale omogeneo ai diversi livelli un dispensabile salto di qualità siamo favorevoli va bene come concetto si è capito ok siamo favorevoli grazie grazie intanto mi scuso con i 5 stelle perché vi ho detto che cambiate repentinamente idea ma in confronto al consigliere Giuliano siete assolutamente coerenti perché non ho mai visto un cambio di opinione così repentino nel giro dello stesso consiglio ma quando non si leggono gli atti e si va a naso questo è quello che accade per esprimere il voto del partito democratico su quest'atto come voi sapete a dimostrazione del fatto che non c'è una questione pregiudiziale rispetto al tema lo dimostra il fatto che appunto a marzo noi abbiamo votato favorevolmente a quest'atto e all'indirizzo che veniva dato però questa volta mi dispiace ma per tutte le cose che ho detto prima non è un atto che a nostro giudizio si può votare va in contrasto alla delibera 129 che è ancora vigente non tiene conto di tante questioni e soprattutto io trovo mi dispiace vergognoso e non un motivo di vanto che si cambi idea in questo modo prendendo in giro i cittadini facendogli pensare che vengono ascoltati ma i cittadini vanno ascoltati prima di fare le cose perché devono essere se crediamo veramente alla partecipazione devono essere parte del processo di partecipazione che porta a prendere delle scelte se invece prima facciamo le cose e poi gli chiediamo un giudizio e quindi modifichiamo gli atti da noi stessi votati io credo che sia una cosa assolutamente vergognosa quindi come sapete noi non partecipiamo alla votazione ma in ogni caso siamo assolutamente contrari a questa modalità di affrontare la cosa pubblica grazie presidente colleghi consiglieri io sono molto sotto certi aspetti noi quando insomma siamo in commissione siamo molto seppur diciamo espressione a volte di posizioni opposte ma in realtà molto concordi io concordo pienamente con la visione della consigliera biondo in quanto la delibera 129 è del 2014 e il movimento 5 stelle nel momento in cui si esprime non fa gli atti per fare in modo di rendere contento qualcuno attraverso l'utilizzo di un motto o meno ora non sto calando nell'esperienza specifica faccio un'iperbole come al mio solito portare una deliberazione o comunque un documento che abbia riferimento a delle richieste dei cittadini e renderlo inattuato per ben tre anni ed essendo poi in qualche modo portato avanti come discorso per me sinceramente l'input è quello che abbiamo fatto noi non è assolutamente un errore è un investimento non un dispendio di risorse pubbliche che ci dobbiamo mettere a fare il conto di quanto ci sia costata la riforma costituzionale che è stata bocciata il 4 dicembre direi insomma che riconducendo nel piccolo e calando in quello che stiamo facendo noi adesso posso solo che dire che i cittadini che a suo tempo vollero con quella proposta in iniziativa popolare fare in modo di poter avere una voce in capitolo nell'ambito dei rifiuti nell'ambito del settimo municipio lo potranno fare collaborando ed avendo la possibilità di interagire con la commissione ambiente del proprio territorio la visione della 129 era una visione strutturata noi abbiamo cercato di ricalcarla effettivamente sì abbiamo voluto ragionare in senso di ascolto e quindi prima di avviare l'organismo cercare di valutare e di calarlo al meglio in quella che è la nostra esigenza l'attuale amministrazione ha avviato un tavolo che sta ancora definendo delle particolarità comunque degli aggiustamenti nei confronti del contratto di servizio di AMA perché anche quello ce lo siamo ritrovato è stato firmato e approvato se non ricordo male a pochissimo dal nostro ingresso quindi cerchiamo di renderci conto che i tempi dell'amministrazione sono sì lunghi che sì molto spesso le amministrazioni per fare in modo di non disattendere ciò che hanno scelto magari rischiano poi di portare avanti dei discorsi magari a volte anche errati quindi nel nostro piccolo caso specifico territoriale noi stiamo facendo un qualcosa che alcuni cittadini nel 2014 speravano di vedere realizzata ecco nel 2017 caliamo la nostra esperienza come progetto pilota nel settimo municipio soprattutto consapevoli del fatto che essendo tutto in etinere non è detto che questa possa essere l'unica visione 5 stelle o comunque territoriale che possa magari essere possa definirsi progetto pilota e poi essere estesa magari in altri territori della nostra grande città volevo fare solamente una parentesi ho chiuso e ovviamente noi votiamo favorevolmente questa nuova visione appunto dell'osservatorio municipale permanente rifiuti grazie bene procediamo con la votazione ah c'era una dichiarazione Toti non l'avevo vista già mi sono espresso rispetto a questo però volevo ribadirlo il voto favorevole ho detto è uno strumento di partecipazione importante uno strumento di partecipazione dei cittadini al servizio della commissione questo lo abbiamo anche ribadito ma lo voglio anche rispetto a questo anche rispetto a questo mio intervento ripeterlo il contratto di servizio ne ho parlato e si deve andare chiaramente a cercare di trovare anche delle modifiche e anche rispetto al discorso del decentramento del servizio ma soprattutto io spero desidero mi auguro che questo osservatorio sia finalmente un momento positivo di questa amministrazione per dare risposte a un servizio che come ho detto anche questo in precedenza è ancora in difficoltà io spero che con tutte le realtà si riescano a correggere qualcuno diceva il porta a porta io penso all'umido a tutta una serie di problemi che abbiamo nel territorio si riescono a correggere errori che purtroppo sono state fatti e voglio dire in collaborazione con tutte le realtà riusciamo a far finalmente camminare bene un servizio che è realmente molto sentito dai cittadini del nostro territorio votazione favorevoli non c'è in questo momento non c'è io non lo vedo contrari astenuti con quanti con 12 benissimo allora la delibera viene approvata con 12 voti favorevoli nessuna astenuta e nessun contrario ci sono i consiglieri Ciancio Biondo che non hanno votato pur essendo in aula anche su questa delibera visto che è una delibera è una delibera dobbiamo chiedere l'immediata eseguibilità per l'immediata eseguibilità favorevoli come sopra come sopra contrari astenuti stesso risultato della votazione precedente passiamo all'ultimo punto della lunga seduta di oggi a me dispiace per quei cittadini che non hanno voluto aspettare ma veramente era la maratona che avevo previsto è stata la maratona che avevo previsto poi mozione a firma dei consiglieri triputi Giannone Guido Tosatti la Zazzera Candigliote l'Abiso avente ad oggetto rilancio dei mercati rionali per la relazione sì grazie consigliera triputi grazie presidente adesso cambiamo regime non parliamo più di delibere e invece e invece presentiamo una proposta di mozione avente oggetto il rilancio dei mercati e l'artigianato ho sentito in aula parlare molto spesso della partecipazione attiva e mi riferisco a questo citando l'articolo 26 della nuova delibera 30 2017 che appunto ha come oggetto il regolamento del commercio sulle aree pubbliche recentemente approvata dall'assemblea capitolina questo articolo ci dà l'input per favorire progetti realizzati da cittadini e o operatori costituiti in associazioni che abbiano ad oggetto il riuso il riciclo le iniziative educative sociali didattiche e culturali l'artigianato servizi ai cittadini da realizzarsi presso le strutture mercatali esistenti mediante avviso pubblico è importante la partecipazione attiva appunto in quanto i cittadini insieme realizzano progetti atti a far conoscere nuove realtà creare aggregazione prendendosi cura dell'esistente valorizzando e rilanciando quelle attività che attualmente stanno in difficoltà con questa mozione vogliamo cogliere due aspetti a nostro avviso ma credo che sia condivisibile da tutti quello delle aree mercatali e dell'artigianato sempre più ci stiamo accorgendo che i mercati devono essere concepiti non più come dei semplici punti dove andare a fare la spesa ma delle piazze punti di aggregazione più punti di incontro ebbene proprio in virtù di questa nuova concezione come in tutte le piazze anche i mercati devono presentarsi con una eterogenità di attività quali alimentari non alimentari fiori artigianato ortofrutta produttori e rivenditori la proposta che presentiamo mira non solo a far conoscere la nuova tendenza dettata dall'amministrazione capitoline attuale ma a favorire il connubio tra attività mercatali e attività artigianali la proposta di mozione presenta due parti la prima parte è una proposta cioè quella di promuovere appunto un evento che abbiamo intitolato ritorno al presente dei filet nella speranza che questo evento possa essere promotore di ulteriori future iniziative perché abbiamo pensato come location le aree mercatali idonee perché nei mercati rionali ancora persiste quella voglia di interazione di dialogo creare dunque dei punti di aggregazione dove il commercio l'arte e la cultura si possano incontrare con la quotidianità dei cittadini e chissà in futuro dove sarà possibile il turismo creare un'immagine diversa di mercato rionale il mercato deve mostrarsi ai cittadini come avevo poc'anzi detto una piazza dove l'incontro con divisione di momenti possono offrire ad ognuno un nuovo modo di stare insieme e perché no motivare e incoraggiare chi vuole investire sul proprio mestiere la delibera 30 del 2017 riguardante il regolamento del commercio sulle aree pubbliche infatti indirizza ad avviare attività artigianali nei mercati nel dispositivo si impegna il presidente e l'assessore competente affinché si attivino ad individuare l'area mercatale idonea e ad accogliere eventuali progetti avviando quanto prima le azioni necessarie per la realizzazione della suddetta manifestazione volevo puntualizzare che facendo una carellata di commissioni ascoltando i vari presidenti di mercati come voi sicuramente i commissari della commissione che presiedo si ricorderanno molto spesso sono stati proprio loro che ci proponevano di poter appunto realizzare eventi per poter rilanciare le loro attività mercatali quindi non abbiamo fatto altro che accogliere queste loro richieste e ci è venuta in aiuto appunto questa nuova delibera la 30 del 2017 penso di parlare insomma a nome non solo del Movimento 5 Stelle ma credo anche di tutta l'Aula i mercati come anche l'artigianato hanno bisogno di un nuovo impulso questo nuovo impulso lo dobbiamo dare noi come politici ma in un certo quel modo dobbiamo lavorare a fianco dei cittadini perché i cittadini hanno ancora questa speranza questa voglia di continuare a creare questa voglia di risorgere e quindi non possiamo perdere questa opportunità quindi fianco a fianco dobbiamo lavorare appunto per cercare di far rifiorire quelle attività che ahimè in questi ultimi anni sono state un pochettino dimenticate grazie Giuliano allora è un argomento una mozione che la collega Tripudi presidente Tripudi ha espresso in modo molto bello e preciso cioè veramente come se fosse nata dal di dentro non fosse solo un atto amministrativo devo dire che questo mi ha colpito e lo dico perché se fossi stato io il presidente di questo municipio se avesse avuto l'opportunità di vincere questo municipio avrei sicuramente messo mano alle aree mercatali perché sono una realtà del nostro territorio sia dal punto di vista tradizionale ma anche dal punto di vista della socialità quindi di comunità dove ormai le piazze non hanno più il loro modo di essere sono degli spaccati in cui all'interno c'è un po' di tutto quello che è la comunità diciamo di un quartiere e quindi le varie espressioni per cui devo dire perché lo dico questo perché non ho potuto non essendo parte integrante della commissione essendo componente non ho seguito ovviamente direttamente questi lavori ma e se il risultato è questo che mi torna e con tutta tranquillità non mi non mi creo nessun tipo di problema do il mio supporto al 100% a questo tipo di iniziativa perché a parte che è anche diciamo l'interesse politico della dell'organizzazione politica che rappresento quindi i fratelli d'Italia soprattutto nella nostra Presidente Giorgia Meloni che comunque gira a continuazione le aree mercatali perché comunque sono una realtà non ci inventiamo noi non inventate voi ma sono una realtà di fatto e dare un impulso a questa a questo settore io direi che è vitale siamo in ritardo ci sono dei mercati che stanno in coma e quindi hanno bisogno di energia hanno bisogno di sviluppo e di aiuto quindi anche fondi per la ristrutturazione per renderli più omogeni parcheggi risistemazioni insomma ci sarebbe da fare un piano poi per quanto riguarda se ho capito bene l'identificazione di uno o più spazi io in questo caso diciamo avrei un'idea ma sono di parte per cui la dico uguale io parlerei di Quartomiglio c'è quell'area mercataria di Quartomiglio sotto c'è uno spazio diciamo bello poco sfruttato dove penso che ci possa essere un aumento dell'attività anche artigianali o l'esposizione o aggiungere altri banchi insomma per rendere quel quadrante con i parcheggi anche per rendere quel quadrante come si dice apprezzato sia dai residenti ma che dal contorno quindi perché immagino che poi non è che sia fine a se stesso quindi può essere anche vissuto da altri quadranti oppure farne più di qualcuno insomma quindi se fosse succede questo ci sono altri ovviamente ripeto sono un po' di parte perché vengo da quel quadrante lì che è stato un po' dimenticato come mercato ecco perché lo dico non perché gli altri non abbiano la loro importanza anzi ci sono mercati che sono fondamentali che sono storici che hanno comunque bisogno anche probabilmente di più di un intervento semplice lì a quarto meglio invece l'interrompo consigliere Giuliano non ha finito il tempo tranquillo volevo dire però che è finita la proroga quindi estendiamo fino a fine lavori ormai siamo alla votazione così è rimasta la votazione no? quindi io penso spero che in dieci minuti ce la faremo va bene andiamo fino a fine lavori? sì ok può continuare grazie se no rimanevo senza fiato rimanevo fermo così allora e quindi per chiudere lo dicevo perché non è non è il mercato forse idoneo per per un meccanismo generale di intervento e quindi di un progetto completo però è un mercato un'area che si presterebbe molto bene ad avere un impulso territoriale perché appunto ci sono i parcheggi eccetera quindi se questo è se tanto mi da tanto se questa commissione se la presidente ha tirato fuori insieme ai commissari questo risultato dicevo se tanto mi da tanto sono fiducioso perché questa mozione possa andare avanti e possa essere comunque portata avanti dalla nostra presidente dall'assessore per avere fra qualche tempo io mi auguro prima possibile un risultato per venire qua e dire abbiamo dato veramente mandato politico ad un risultato ad un intervento che ha dato degli risvolti importanti sul quadrante quindi a beneficio delle aree mercatali grazie grazie presidente a lei alla sua commissione i suoi commissari e sono convinto che come Fratelli d'Italia siamo ben disposti altri interventi consigliere a biondo grazie grazie presidente grazie alla presidente triputi per aver effettivamente spiegato l'atto con compassione intanto una questione di merito che mi scuserete però vorrei sinceramente capire perché su alcune questioni fate delle emozioni alla vostra stessa giunta e su altre questioni invece che sono simili a queste non c'è bisogno di emozioni c'è un'attenzione particolare che volete porre perché la giunta non vi sembra particolarmente attenta è una scelta casuale perché per farvi degli esempi quando noi abbiamo fatto degli eventi pubblici come la giornata dell'8 marzo piuttosto che la giornata contro la zardopatia in piazza Don Bosco non abbiamo avuto la necessità non c'è stato bisogno di fare delle emozioni alla giunta di questo municipio l'abbiamo deciso in commissione piuttosto che nell'osservatorio l'abbiamo organizzato ne abbiamo parlato direttamente con l'assessore competente e lo abbiamo fatto per cui io penso che su questo non c'era bisogno di fare una mozione in consiglio sarebbe stato sufficiente invitare l'assessore in commissione a parlarne e si sarebbe potuto fare il mese dopo come abbiamo fatto vi ripeto per l'8 marzo quando in commissione delle elette abbiamo stabilito che avremmo fatto quella giornata di sport a Villa Lazzaroni con dieci giorni di anticipo perché quando è il municipio ad organizzare un evento sul territorio come sapete non c'è bisogno di tutte le lungaggini che invece devono affrontare le associazioni o i singoli cittadini su questo mi sembra che la giunta quando l'avete invitata in commissione ha sempre ascoltato su un tema del genere mi sembra che sarebbe senza dubbio d'accordo vorrei sinceramente capire sulla base di che cosa a volte decidete di fare una mozione e altre volte no perché tendenzialmente fare una mozione alla propria giunta almeno dal mio punto di vista fa trasparire una sorta di sfiducia nella propria giunta che non penso che in questo caso dovreste avere per quanto riguarda quello che dicevo prima ed è vero la presidente della commissione ha spiegato qual è tutta la discussione e la filosofia che sta alla base diciamo di questa proposta effettivamente quando io ho letto questa mozione in cui appunto si premette che l'artigianato diciamo è un'attività non solo importante ma che appartiene profondamente alla tradizione di questa città che solo due secoli fa tutto veniva fatto a mano e che invece adesso la produzione è quasi esclusivamente industriale e quindi si sta perdendo diciamo la capacità artigianale che i mercati vanno riqualificati e su questo chiaramente non possiamo che essere d'accordo non solamente diciamo in prima battuta per gli operatori che sono dei lavoratori che lì svolgono la loro attività da anni ma anche perché appunto rappresentano dei luoghi di aggregazione importanti per i nostri quartieri io dopo tutte queste premesse importanti che condivido mi sarei aspettata qualcosa di più e non semplicemente la proposta di un defile nei mercati del nostro del nostro municipio io ve lo dico sinceramente mi ero illusa che tutte queste premesse portassero ad esempio ad impegnare l'amministrazione di questo municipio a riqualificare i mercati rionali come diciamo ma anche finalmente ad impegnarci a trovare i fondi per questo oppure come ci diciamo e come siamo d'accordo a tenere i mercati aperti oltre l'orario solito e a lavorare per rendere la famosa somministrazione all'interno dei mercati non più una promessa ma una realtà a facilitare burocraticamente l'organizzazione di eventi all'interno dei mercati da parte degli stessi operatori che questa mi sembra anche una delle questioni che più spesso ci hanno posto in commissione gli operatori dei mercati e che è una cosa che dipende esclusivamente dalla burocrazia di questa amministrazione e sulla quale avremmo potuto intervenire immediatamente a chiarire ad esempio che fine faranno gli operatori dei mercati alla scadenza delle concessioni a parlare di come fare partire i progetti di reti di impresa che hanno vinto il bando della regione Lazio in questo municipio dato che la maggior parte sono proprio dei mercati rionali e invece appunto diciamo mi ero illusa la soluzione di tutta questa mozione era quella di fare una sfilata di moda nei mercati ora non c'è niente di male in questo però vorrei fare delle domande intanto vorrei chiedere da chi viene esattamente questa proposta vorrei chiedere perché abbiamo scelto proprio questo titolo e non è una questione di titolo ma perché tra le tante cose che sono citate giustamente in premessa scegliamo semplicemente i laboratori e il rilancio delle sartorie artigianali cioè perché non abbiamo scelto anche l'artigianato digitale piuttosto che l'oggettistica piuttosto che i gioielli le borse perché abbiamo scelto proprio questo perché una mozione così specifica e non una mozione in cui impegniamo l'amministrazione a rendere operative tutte le attività di artigianato all'interno dei mercati orinali oppure una manifestazione specifica ma in cui sono ospitate tutte le attività artigianali che esistono in questo territorio questa cosa non l'ho capita e poi anche perché non mi sembra diciamo da quello che io ricordi che tra le tante cose che effettivamente ci hanno sollecitato in commissione l'urgenza principale era quella delle sartorie di questo municipio non siamo Prato dove la filiera della moda è il vanto del territorio noi abbiamo artigianato di tutti i tipi per lo più di artigiani con partita IVA individuali che avremmo potuto aiutare indistintamente vorrei capire perché proprio i sarti da dove c'è perché io non mi ricordo forse non avrò partecipato a quella commissione ma che sia venuta una delegazione di sartorie artigianali a spiegarci che quella era l'urgenza rispetto al mondo dell'artigianato nel nostro municipio e poi un'altra domanda per questo tipo di manifestazioni come vengono scelti gli artigiani o le sartorie artigianali che parteciperanno a questo tipo di iniziative vengono scelti solo quelli che si sono presentati in commissione viene fatto una manifestazione di interesse sul sito del municipio ognuno di noi ne propone uno perché anche questa cosa non credo che sia chiara l'ultimissima cosa nell'impegna non capisco perché se prima dite che bisogna che questa giunta si attiva ad accogliere tutti i progetti debba realizzare immediatamente proprio la suddetta manifestazione io penso che invece ripeto avremmo dovuto impegnare la giunta a realizzare tutte le manifestazioni che potevano venire dal territorio su questo tema indirizzandole come commissione commercio e come giunta di questo municipio a tenerle non in dei luoghi qualsiasi ma all'interno dei mercati rionali perché questa invece è una scelta che noi condividiamo ma perché proprio alla manifestazione che si chiama ritorno al presente dei filets complimenti per la fantasia e non qualcun'altra grazie altri interventi consigliere Guido ahimè grazie presidente no vabbè giusto per rispondere a qualche dubbio della consiglia che mi ha preceduto intanto sulla natura degli atti in questo caso le mozioni la natura può essere molto varia noi in genere facciamo mozioni o quando e abbiamo dei progetti in collaborazione con le opposizioni come in collaborazione con le opposizioni come ad esempio la mozione sullo sviluppo culturale dell'altro giorno come la mozione sulla giornata della memoria sulle foib e ce l'ho discorrendo ma anche motivazioni che sono volte a dare la possibilità a questo consiglio e a questo consiglio municipale di come in questo caso indirizzare la giunta a fare qualcosa non perché la giunta non poteva farla già da sola perché facendo una mozione con gli argomenti che la consigliera Biondo ci diceva prima come per esempio allungare gli orari dei mercati oppure promuovere un generale sviluppo dei mercati stessi non dà un segno distintivo da parte di questo consiglio anzi fare mozioni in quel senso voleva dire quasi avere sfiducia nell'aggiunta perché li indirizziamo per fare cose strutturali mentre questo qua è un'emissione di avviso pubblico io qui lo dico e qui lo nego in realtà la nostra giunta va come un treno quindi non è che abbiamo problemi di fiducia di sfiducia nella nostra giunta anzi io io abitualmente faccio degli incontri con i capigruppi 5 Stelle degli altri municipi e loro stessi mi dicono che la nostra giunta va come un treno quindi non è questione di fiducia per quanto riguarda la mozione in senso più tecnico semplicemente stiamo indirizzando la giunta in questo caso non su un carattere strutturale ma su un carattere c'è defilato che può essere anche un gioco di parole visto che il titolo quel defilè vabbè qui c'è questa battutaccia me la perdonerete non è stiamo indirizzando la giunta di mettere un avviso che per me come lo so cioè a me sembra abbastanza chiaro c'è la giunta non è un dialogo posso finire consigliere a biondo grazie non è stiamo indirizzando la giunta a promuovere una serie di eventi sul territorio all'interno dei mercati tramite l'emissione di un avviso che non comporta per sua natura ci dico per sua natura perché sappiamo le risorse che abbiamo in bilancio oneri per l'amministrazione io penso che i mercati interessati quelli poi che la giunta qui per l'appunto poi riterrà i doni se mostrano interesse per questa manifestazione di interesse ci presenteranno un loro progetto e si andrà avanti questo per spiegare anche la questione dell'8 marzo della festa della donna eccetera degli eventi l'assessore viene in commissione come stavo raccontando prima perché quello è un evento organizzato dal municipio cioè questa mozione prevede eventi che non necessariamente sono organizzati dal municipio ma sono organizzati anche in base all'interesse che c'è da parte dei mercati cioè i quali si incaricano personalmente noi ipotizziamo cioè di creare degli eventi a tema quindi qua va il titolo specifico che è un titolo che a noi maggioranza è sembrato buono ma non è esplicativo e anzi si può ampliare c'è la maggioranza l'ho appena detto però io quando parlo vorrei essere anche ascoltato c'è la questione c'è dei temi peraltro è concludo è un argomento che abbiamo più volte anche affrontato nella commissione cultura perché nella futura programmazione anzi l'annuncio all'aula magari in assestamento abbiamo ottenuto 25 mila euro per la cultura cosa che non c'è da anni quindi questo è positivo quindi stiamo per istituire la programmazione artistica e culturale a settembre arriverà in consiglio immagino con l'aiuto di tutti i commissari competenti la delibera su cui stiamo lavorando ormai da mesi c'è in commissione cultura e uno dei cardini di questa delibera oltre alla e oltre alla zona cioè al luogo e oltre alla parte calendariare l'altro terzo tassello fondamentale è la tematica quindi chiedere c'è quindi c'è puntare sugli eventi anche che siano tematizzati questo c'è quella che quello che è inserito in questa mozione è una per me una buona sperimentazione di tematizzazione per vedere come reagisce il territorio e in questo per me è molto interessante e concludo dicendo una cosa che posso dire anche in commissione cultura ma lo dico qua cioè giusto in chiosa come da volere dalla commissione cultura ormai di qualche mese fa abbiamo inviato forse due settimane fa un questionario a tutti i comitati di quartiere del territorio con tre quesiti per stabilire cioè per l'appunto queste tematiche e poi i luoghi che i comitati stessi immaginano funzionali sia per il loro territorio di competenza del comitato sia c'è in tutto il settimo cioè studiamo questi tre quesiti in commissione li abbiamo inviati stiamo ricevendo risposte purtroppo non tutti hanno risposto però aspettiamo magari qualche altro giorno prima di convocare una commissione cultura in questo senso io credo che questo tema qua possa essere quello che ha spiegato la consiglia Tributi possa essere un ottimo campo di sperimentazione ho fugato ogni dubbio sulla fiducia dell'aggiunta sulla sulla modalità e sui motivi delle emozioni che siamo maggioranza certo ma abbiamo anche il compito di indirizzare l'aggiunta laddove poi riteniamo opportuno e anche in condivisione con le opposizioni credo di aver spiegato più o meno tutto grazie ci sono altri interventi passiamo alle dichiarazioni di voto no consiglio voleva che facessi facciamo la dichiarazione di voto io finisco giusto perché ho ascoltato con tanta attenzione come sempre faccio quando parla del capogruppo del movimento 5 stelle perché il capogruppo su detti argomenti è stato sempre molto puntuale però permette il capogruppo io devo dire che chi si loda si imbroda e allora quindi volevo lanciare una frecciatina di non osare dire stiamo andando come un treno mi auguro peraltro che questo inoltre di questa mail a tutte le associazioni possa essere stato fatto con una sua qualità di istituzionale di quale presidente della commissione perché diversamente poi magari sai ci si può scontrare con qualche ex consigliere che diventa cattivo poi sull'aspetto formale quindi se ha fatto un inoltro si preoccupi di averlo fatto con l'email giusta altrimenti diventano email a 5 stelle e siccome è una forma istituzionale quella che lei sta dicendo rispetto al percorso culturale che abbiamo fatto in commissione la pregherei di usare un sito istituzionale dico ringrazio quindi tutti i consiglieri ma io non penso che in questo momento nei mercati io sono stato con il vostro assessore a una riunione con i mercati i mercatari di Viorvieto e altri anche via Piazzepiro l'altro mercato Metronio i consiglieri c'erano altri consiglieri presenti dove certo a me non sono quello che dice no alle iniziative della maggioranza però formuliamoli con gli strumenti adatti le può trovare tutte le giustificazioni per dire noi facciamo una mozione perché speriamo no la mozione è un atto che si fa per altre cose per questa tipologia bastava o che in commissione si dava mandato all'assessore riportando le ultime quattro righe senza venire in aula si dava mandato perché lo poteva fare oppure con un atto diverso da questo ed è scontato quello che mi preme dire che a prescindere dall'iniziativa poi se non ci stanno i denari e sono contento di aver visto nell'assessamento di bilancio la scheda quella che chiedo solitamente in commissione dove sono arrivati 29 non 25 mila euro come a ogni municipio chi aveva avuto 83 mila euro già gli hanno dato zero giustamente ma chi come il settimo municipio aveva ricevuto zero in bilancio giustamente è corretto avere avuto la stessa percentuale volevo avvisare peraltro che se volessimo come dire far concidere due momenti importanti dovremmo informare intanto che in bilancio ci sono anche 215 mila euro per il mercato di quartomiglio e 282 mila euro per il mercato metronio di cui 53 mila euro solo per progettazione per il precedente 15 mila euro per progettazione cioè una progettazione che si fa pagare circa il 23% però sicuramente ci saranno cose antiche da fare questo per dire che in bilancio poi quello che chiedo c'è e bisogna portarlo all'attenzione in commissione perché sicuramente se l'assessore che conosce sicuramente questa mozione conosceva le intenzioni della maggioranza fosse stato nella commissione competente poteva suggerire di fare un'operazione informativa su una cosa che aspettano veramente da molto tempo i mercatari di via Magna Grecia cioè abbiamo sfatato l'operazione della delibera 129 che era quella che voleva mettere sotto un pupo quindi siamo andati avanti si richiede di ripristinare ahimè 450 posti auto che sono fermi e non c'è nulla da fare baseranno quei soldi allora di questo secondo me era il caso a prescindere dal defilè che poi attenzione potrebbe mettere in contrasto alcuni operatori commerciali come al solito ripeto prima di fare le mozioni fateci vedere in commissione o chi saranno gli operatori che hanno aderito a questo progetto se no vedere come dire solo una sartoria precisa quella di via tuscolana o di via dell'aeroporto diventa un'operazione un po' particolare quindi faccio esempio non è che sto dicendo che non c'è scritto niente però potrebbe lasciare a intendere che c'è un'azione diretta verso qualcosa ma io lo dico serenamente questo è un ottimo lavoro nella premessa nel considerato in tutto però poi alla fine è uno strumento è una mozione perché non abbiamo fatto un atto insieme all'assessore veniva in commissione e poteva impegnarsi già con due parole nel verbale direttamente con l'apporto dei consiglieri quindi mi dispiace però sono contento di alcune notizie che ci ha dato il capogruppo glieli confermo perché anche io le ho avute e quindi non si possono fare nozze con i fichi secchi se ci stanno i denari si può operare energicamente ma sono perplesso quei soldi che anche il consigliere qualche altro consigliere che di questa maggioranza ha partecipato sicuramente non basteranno per fare tutto quello che serve per l'ordinaria manutenzione e l'efficienza di un mercato che ha necessità di avere investimenti congrui e puntuali grazie ci sono altri interventi? consigliere Totti il tema dello sviluppo è senz'altro centrale rispetto alla mia proposta politica ho visto il consigliere anche lui come me candidato presidente che ha ribadito queste cose il rilancio forte che dice questa mozione poi bisogna riuscire a farlo chiaro rilancio forte dei mercati dell'artigianato io dico anche del commercio perché il commercio ha bisogno nel nostro territorio di un rilancio forte e rispetto alla mozione rispetto alla mozione voglio dire io spero che questa proposta di mozione cioè questa voglia di mettere il rilancio dei mercati artigianati e aggiungere anche commercio sia chiamiamola pur una forzatura nel senso proprio per la pesantezza del problema per la pesantezza della cosa è veramente voglio dire la mozione una voglia forte di questo consiglio di parlare anche con l'assessore in modo forte rispetto ecco in questo io posso lo posso definire questa mozione in questo senso perché c'è bisogno di una risposta forte da parte di questo municipio rispetto ai mercati rispetto all'artigianato rispetto al commercio ma io dico che anche recuperare la funzione aggregativa sociale e culturale del mercato non è soltanto un fatto di soldi è un fatto anche di impegno culturale di confronto con le associazioni con le associazioni che ho detto questa è di cui io invito la Presidenta Commissora a tenerne conto dei cinque grandi organizzazioni sindacali del commercio dell'artigianato ma anche dei singoli commercianti e degli artigiani perché tutti possono dire e debbono dire una parola rispetto al miglioramento di questo settore però ecco voglio dire il fatto che io ho visto ad esempio in alcuni mercati caffè adesso arrivano ed è anche questo momento di aggregare caffè perciò sportelli informativi l'attività di somministrazione che chiaramente deve essere deve essere sollecitate in modo che si possa fare all'interno dei mercati ma i laboratori artigianali e poi gli eventi e la manifestazione sta anche a noi in un mercato pure in difficoltà riuscire a trasformarlo attraverso eventi attraverso manifestazione in modo che anche con un discorso di precarietà economica riusciamo comunque a far diventare piazza come tutti quanti noi vogliamo Fulvio parlava anche lui di piazze ed è un discorso importante perché la piazza sta perdendo sempre di più la sua funzione io voglio dire io sono amante del mercato i colori del mercato da sempre voglio dire però il mercato veramente è bello e dobbiamo e dobbiamo e dobbiamo considerarlo e rafforzarlo io lo vedo e spero anche che questo questa proposta di mozione che ha presentato la presidente della commissione commercio sia un primo passo è chiaro perché giustamente qualcuno ha detto dice vabbè poi alla fine abbiamo fatto tutti i miei discorsi e poi andiamo però ecco che sia io questo mi auguro e questo vorrei che fosse un primo passo è un'attività artigianale seria quella delle sartorie che è una è un discorso di qualità italiano a livello mondiale il discorso della sartoria importante perciò ecco sia un primo passo verso il veramente un impegno forte di questa maggioranza io mi auguro rispetto al commercio all'artigianato ai mercati perché c'è realmente bisogno di questo come c'è realmente bisogno di momenti di aggregazione il mercato può essere e deve essere un momento di aggregazione perciò voto favorevole però con una raccomandazione che sia il primo passo verso realmente uno sviluppo rilancio dei mercati e del commercio e dell'artigianato al nostro municipio altri interventi prego consigliere grazie presidente allora non so da dove cominciare perché le domande sono tante i dubbi sono tanti comincerei da definire intanto di fare una distinzione tra mercati rionali che sono si ricorda sul plateatico attrezzato e invece quelli che non hanno il plateatico attrezzato quindi sono due cose differenti poi in sede opportuna di commissione vi spiego la differenza allora detto ciò nonostante questo ci è stato chiesto perché fare questo tipo di evento beh sarebbe chiaro anche a un bambino cioè nel senso se creo un opi metto un opi dentro l'area mercatale sta facendo l'area mercatale non sta facendo l'evento che cattura magari gli opi li faremo in altre situazioni e allora avrà più senso in quel caso magari manifestazioni esterne perché rilanciare il il vestiario il vestiario perché è fondamentale capire che l'artigianato sta morendo non so se ve ne siete accorti ma purtroppo è così e noi che cosa facciamo stiamo inserendo in questo contesto stiamo inserendo il diciamo questo tipo di artigianato perché è fondamentale è previsto anche dalla nuova delibera quindi noi che cosa abbiamo detto cerchiamo qualcosa di rilievo poi spiegherò anche il nome perché è stato scelto questo nome in funzione del fatto che noi abbiamo detto se noi portiamo ciò che sta morendo e ha una rilevanza facciamo due ovviamente obiettivi raggiungiamo due obiettivi il primo obiettivo è quello di fare un distinguo della cosa dal mercato all'evento in sé per sé e quindi portiamo dentro una situazione di richiamo la seconda cosa che cosa facciamo automaticamente diamo la possibilità alle aree mercatali che hanno delle caratteristiche perché ovvio che laddove non ci sono le caratteristiche non possiamo fare quel tipo di evento poi ne faremo altri ma che devono avere sempre un richiamo di distacco da quello che è poi l'area mercatale ora detto questo perché questo nome questo nome ritorno al presente perché semplicemente abbiamo detto siamo sempre stati per il riuso delle cose e anche a livello diciamo anche un secondo messaggio che è quello di riutilizzare le cose e abbiamo detto che forse sarebbe stato carino come situazione dare la possibilità all'artigianato in questo caso delle sartorie prendere gli abiti vecchi diciamo quelli dismessi e creare nuovi abiti quindi rigenerare ciò che era morto finito e abbiamo dato questa possibilità proprio in funzione anche anche di una visione che va al di là del semplice vestito ma anche di un messaggio che stava dietro questo questo modo di pensare quindi anche il fatto di riutilizzare ok ecco perché abbiamo scelto questo vedo che è abbastanza ferrato in materia quindi era questo semplicemente questo non c'era niente niente di più secondo la cosa fondamentale è perché abbiamo chiesto alla giunta e in altri casi non abbiamo chiesto ma perché perché in quei casi dove quelli che sono stati citati è semplicemente c'era già un indirizzo c'era già un posto non serviva a niente lo potevano fare loro tranquillamente noi qua stiamo chiedendo un'altra cosa una cosa che non riguarda il lato politico ma è tecnico e noi stiamo chiedendo l'individuazione a livello tecnico anche di poter di poterci dire sì sono questi i posti dove possono essere fatti ok perché non tutte le strutture sono idonee per poter fare una sfilata di moda ho capito non lo so se facciamo questo riguardo non è un dibattito moltesemente allora la giunta non me lo deve dire ma ovviamente deve incaricare i tecnici affinché possano rilevare le criticità su sulle strutture per dire se quella struttura è idonea oppure no le domande sono tante quindi cerco di di essere più esplicativo e mi scuserò se magari mi scordo delle cose perché sono state dette tante cose che poi all'atto pratico non erano neanche reali parliamo del discorso del commercio fino a ieri non è stato fatto niente ma zero infatti tutti quelli che sono venuti hanno detto semplicemente che sono state fatte tante promesse ma l'atto pratico non c'è stato mai niente ok promesse eh promesse reali e quando il consigliere prima del PD mi dice che è stato a una riunione mi ricordo che in quella riunione purtroppo c'era anch'io peccato e mi ricordo benissimo che purtroppo gli stessi del mercato si stavano lamentando con quelli che c'erano prima e vorrei che si ricordassero queste cose quindi non è una nostra un nostro diciamo vaneggiare ma è una realtà popolare diciamo questo oltretutto che non è stato fatto niente ricordo che sono stati eh adesso non so più o meno se non erro dai 4 ai 4 milioni e mezzo per eh per i mercati che tra l'altro non dipendono a noi perché sono del dipartimento ricordo li da il dipartimento perché quello che ci compete a noi al massimo può essere la dirattizzazione se vi interessa noi siamo solo per la dirattizzazione come competenze però bisogna conoscerle queste cose ovviamente se non si è in commissione e quindi non si viene non si deve parlare su cose oppure ci si aggiorna si capisce quale sono le competenze e magari poi uno magari interviene o se si fa come si dice io lo sonpa cavallo che una volta vieni in commissione e altre due no voglio dire qualcosa inevitabilmente ti perdi allora io quello che dico è semplicemente non stiamo facendo niente di qualcosa stiamo dando un impulso a fare una manifestazione che sia da richiamo per una fase artigianale e una fase mercatale niente di più vogliamo cercare sempre di trovare questi spiriti questi scheletri nascosti non c'è niente c'è semplicemente un aiutare le persone a fare un certo tipo di lavoro quello che avreste dovuto fare voi nella scorsa consigliatura grazie bene altri interventi prego consigliera sì a conclusione allora volevo intanto chiarire una cosa non è che sono stati scelte le sartorie semplicemente perché ci interessano solo esclusivamente ci interessa solo esclusivamente quel settore è semplicemente un avvio diciamo una sperimentazione per vedere effettivamente quanto questo tipo di iniziativa possa prendere sul territorio è ovvio che quando si parla di artigianato si parla di maestranze e sappiamo benissimo chi è stato nella commissione cultura quando abbiamo parlato per esempio di Cinecittà Studios abbiamo parlato tantissimo delle maestranze quindi quando parliamo di artigianato noi parliamo di gente gente che sa lavorare il pellame gente che sa lavorare le stoffe gente che fa degli studi tecnologici proprio sui colori artisti veri e propri che magari che ne so fanno oggettistica gioielli quindi è un comparto vastissimo la sartoria è semplicemente un modo per cominciare per cominciare e io mi auspico che sia veramente l'inizio di una serie di eventi perché ritorno al presente l'artigianato come già è stato scritto sulla mozione ha diciamo delle origini molto antiche sono state poi delle arti tramandate da padre in figlio che purtroppo con l'avvento diciamo dell'età moderna via via queste arti sono state dimenticate ma la cosa che io tante volte mi soffermo a pensare noi abbiamo delle maestranze di eccellenza che purtroppo purtroppo riescono a trovare un riscontro e un apprezzamento riescono a essere valorizzate all'estero e non in Italia allora quello che noi stiamo tentando di fare con queste iniziative è cercare di come posso dire dare speranza a questa gente che magari proprio in virtù di questa crisi che stiamo vivendo e che sta ammazzando proprio questo settore e cercare di dare una speranza in più e dire ok cerca di stringere i denti mettiamoci insieme lavoriamo non chiudere e non andare via questo è il discorso abbiamo preso la sartoria semplicemente come punto d'inizio e io spero che sia veramente un punto d'inizio questo poi dipenderà dalle risposte che noi riceveremo per quanto riguarda l'impiego finanziario non ci costa nulla perché noi mettiamo a disposizione solamente delle aree mercatali e poi saranno i progetti che verranno presentati magari ne presentano pure tanti speriamo di sì mi piacerebbe pensare il settimo municipio in tanti giorni dell'anno dove in contemporanea ci sono tanti eventi perché no non dimentichiamo non dimentichiamo non dimentichiamo che nel settore artigianale ci sono anche i parrucchieri e quando noi parliamo di un defilè di moda cari signori miei noi mettiamo in campo anche altri settori anche altri settori che può essere nel campo del bijou può essere anche i parrucchieri la pelletteria ci sono tanti tanti settori che girano intorno a un defilè di moda ci possono essere anche degli artisti io butto così a caso perché magari vedo i defilè di moda in televisione e lì vedo che ci sono anche degli artisti nel campo della musica perché no quindi non possiamo pensare semplicemente sartoria perché ti interessa magari uno due tre quattro no non è così noi diamo mandato alla giunta affinché provveda come organo esecutivo proprio di trovare queste aree e di accogliere questi progetti da dovunque vengano non ha importanza l'importante è che ci siano questi progetti che ci diano la possibilità di avviare questo tipo di attività sul territorio questo è quanto quello che noi lanciamo è una sfida è una sfida perché noi vogliamo lavorare insieme ai cittadini insieme ai lavoratori insieme agli artigiani perché io dico ancora oggi gli artigiani che continuano ancora in questa attività sono coraggiosi sono veramente coraggiosi perché quello che loro guadagnano rispetto a ciò che spendono per affitto di un locale le tasse da pagare magari anche qualche dipendente non guadagnano molto quindi noi dobbiamo dargli un impulso proprio per essere conosciuti e per quanto riguarda gli artigiani parliamo anche dei calzolai vogliamo parlare anche di quelli che sono poco conosciuti e ce ne sono pure pochi tra l'altro quindi noi diamo semplicemente la possibilità di aprire una vetrina dove in questi luoghi ci sia questa aggregazione dove vengono conosciuti delle realtà nuove sul territorio perché molti non sanno nemmeno che sotto casa c'è una sartoria perché siamo tutti abituati ormai ad andare nei grandi magazzini eccetera e quindi la sartoria diventa come un qualcosa che può permettersi magari chi ha di possibilità economica quindi intanto cominciamo con le sartorie poi nel tempo cominceremo a organizzare come ha già detto il consigliere Guido cominceremo a fare altri eventi con altri temi con altre poste sto controllando ok quindi ecco concluda consigliera cortesemente perché sta e in qualità di portavoce abbiamo il dovere di cogliere accogliere le richieste di aiuto di questa categoria perché sono veramente in sofferenza e sono in ginocchio grazie grazie passiamo alla dichiarazione di voto ci sono prego consigliere allora dichiarazione di voto felicissimo di portare avanti questo di progetto speriamo che possa prendere piede questo ed altro quindi al fine di poter ottimizzare e aumentare l'interesse verso queste aree mercatari un piccolo accenno prima quando la collega Biondo diceva appunto perché fate le emozioni io sono contento se voi fate le emozioni perché date la possibilità a tutti in consiglio di poter dire la propria perché io sono dell'avviso che un atto possa avere la sua efficienza massima quando viene poi posto nella condizione di poter essere discusso e confrontato in aula quindi è vero che la giunta può fare quello che meglio crede e tante volte spesso sono stato abituato negli anni precedenti che tante cose non passavano neanche per per l'anticamera dei saloni e quindi trovavi cose già fatte però è vero pure che se c'è la possibilità di poter portare un confronto in aula io sono contento di poter dire la mia su una mozione o su una risoluzione quello che sia a me fa gioco lo dico anche in modo molto diciamo personale se si fanno questi atti perché comunque siamo a conoscenza di iniziative più cose passano in consiglio significa più siamo legittima di noi nel dover e nel poter comunque dare un giudizio e quindi l'istituzione ne ha vantaggio quindi per questo era una precisazione del fatto di dire che non è che la mozione e la risoluzione che viene fatta dalla maggioranza porta loro a stare in una difficoltà anzi secondo me è un modo che mettono in discussione a confronto la loro idea nei confronti di un'opposizione che può comunque metterli anche criticare o suggerire ma se questo non viene portato in aula anche solo in commissione forse una parte può essere cosciente l'altra parte del partito può darsi no perché non ne fa parte quindi io sono contento di questa possibilità anzi fatene più spesso così almeno ne possiamo confrontarci di più grazie altre dichiarazioni ce ne sono prego sì grazie presidente io veramente non non capisco dove non ci capiamo nel senso che l'ultima dichiarazione del presidente della commissione ha esattamente ribadito tutte le mie perplessità del primo intervento ovvero ha detto che in queste manifestazioni ci sarà anche possibilmente artigianato di qualunque tipo che nelle manifestazioni sono invitati a partecipare gli artigiani di qualunque tipo però l'impegna di questa risoluzione chiede alla giunta di realizzare la suddetta manifestazione non tutte le manifestazioni che vanno in questa direzione come sarebbe stato giusto dire dopodiché per per giustificare la nostra la mia dichiarazione di voto volevo intanto ribadire che se l'obiettivo era quello di dare mandato come è stato detto all'aggiunta di verificare la fattibilità tecnica rispetto ai mercati che possono ospitare queste manifestazioni questo non è esplicitato e comunque le questioni tecniche sempre le abbiamo affrontate in commissione e poi volevo dire che da quello che ho ascoltato mi sembra che noi ci dovremo aspettare nei prossimi mesi in tempi brevi perché mi sembra una cosa abbastanza semplice che ci sarà quindi fatemi capire un bando di questa amministrazione e che a questo bando dal punto di vista delle sartorie potranno partecipare non manco ci sarà un criterio da quello che hanno spiegato prima che non sarà solamente le sartorie artigianali del settimo municipio che comunque non sappiamo quante sono e invece sarebbe il caso in commissione innanzitutto di partire dai dati ma oltretutto tra le sartorie artigianali del settimo municipio ci sarà probabilmente un criterio di prelazione per chi utilizza materiale o abiti usati a me sembra una cosa un po' fatta ad hoc mentre gli indirizzi politici dovrebbero avere uno sguardo un po' più ampio per questo motivo come sapete noi però impegnando l'aggiunta di questo municipio che noi non riteniamo legittimata a fare cose ben più difficili non voglio dire importanti perché questo è importante ma cose ben più difficili di questa noi non partecipiamo alla votazione buonasera da tutti abbiamo fatto le 9 di sera su questa questione grazie grazie lei prego Todi già ho detto c'è il voto favorevole rispetto al rilancio dei mercati dell'artigianato io dico anche del commercio c'è un impegno della presidente c'è una mozione che dà forza a questo impegno io spero che rispetto a tutte queste cose se vogliamo di grossa di grosso impegno ci sia poi ci siano poi dei fatti ci sia ci sia poi ecco continuità rispetto a questa prima manifestazione ce ne siano altre e si riescano realmente ad animare i mercati del municipio perciò voglio dire non possiamo votare contro questo il voto è favorevole però ecco nello stesso tempo proprio perché avete fatto una mozione chiediamo un impegno aggiuntivo rispetto a questo perché è centrale come ho detto è importante un impegno rispetto al commercio rispetto all'artigianato rispetto ai mercati perché significa sviluppo del territorio economico e significa pure lotta alla disoccupazione grazie altre dichiarazioni prego consigliere Guido grazie presidente finalmente questo consiglio termine è stato un po' lungo noi chiaramente votiamo a favore qui devo dire che c'è una volontà di non ascolto questa mi sembra la cosa principale e non interessi particolari qua c'è un interesse particolare a non ascoltare che è una cosa forse ancora più grave ti è piaciuta poi vabbè concordo con consigliere Giano quando dice sulla questione delle emozioni è chiaro che se nella passata consigliatura le cose passavano in mano alla presidente Fantino e i consigli non sapevano niente niente allora qui forse c'è il caso di cortesemente non è un dibattito facciamo concludere che le questioni vengano discusse nella sala che più ci rappresenta che questo è il consiglio municipale e chiudo dicendo facendo una è una battuta brevissima perché comunque ho già espresso la volontà di voto sulla questione del questionario consigliere Ciancio la comunicazione è stata inviata dall'imera istituzionale del comune c'è dalla vicepresidenza vicaria quindi come se fosse la presidenza puoi informare di questo fatto anche gli ex consiglieri che eventualmente hanno letto questa questione perché mi è sembrato un attacco politico un po' zoppicante ci puoi riferire quanto ho detto grazie grazie passiamo alla votazione favorevoli alla mozione la seduta è chiusa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti